Moby Dick in collaborazione con la Ciuculella, la Molisana Attualità politica regionale tra mozione di sfiducia, costi della politica e vitalizi Ne parleremo questa sera in modo garbato lo spero con i nostri ospiti in studio che sono il capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio regionale Antonio Federico Buonasera capogruppo Buonasera A seguire il presidente del consiglio provinciale di Campobasso Gianluca Cefaratti Buonasera presidente Buonasera agli ascoltatori a casa Abbiamo con noi Costanza Carriero, da un po' di tempo mancava da Moby Dick esponente è stata tesoriera del PD, esponente del PD e poi vedremo se creda ancora nel PD Buonasera Carriero Buonasera dottor Minicozzi e buonasera agli ascoltatori Il segretario di sinistra ecologia e libertà, segretario regionale Gigi Nodangelo è un po' fuori linea rispetto alla maggioranza che governa la regione, diciamolo subito Buonasera D'Argelo Buonasera Quanto meno poi preciserà lui le sue cose E a seguire un battagliero di prima categoria denunciato recentemente sotto processo probabilmente Emilio Izzo, buonasera, non lo so se è sotto processo, c'è una richiesta di archiviazione L'unica cosa che so è che tu sorridi quando io sono sotto processo, buonasera lo diremo dopo Sorrido perché ci sono stato anch'io ma poi la giustizia fa il suo corso normalmente Ne sono convinto Normalmente racconta sempre la verità Avremo con noi un costituzionalista di livello È il professore Michele della Morte In collegamento telefonico Si trova a Como Il professore che è ordinario di diritto costituzionale All'Università degli Studi del Molise Con lui vorremmo capire soprattutto Quali sono gli effetti pratici e politici Di una mozione di sfiducia presentata a un presidente eletto dal popolo E poi avremo nella discussione di questa sera Un'intervista realizzata al sindaco di Bonefro Montagaro, Nicola Montagaro Che insieme ad altri sindaci, non è il solo Si è tolta, abolita l'indennità del sindaco Quindi direttando i soldi in altra direzione Così come hanno fatto i rappresentanti del Movimento 5 Stelle In consiglio regionale, non so nei comuni Ma poi ne parleremo con Antonio Federico Come al solito Prima di cominciare il confronto Ascoltiamoci la copertina di Anna Maria Di Matteo Voglio ancora dire una cosa Se posso rientrare Chiedo scusa alla regia Se posso rientrare Una grande novità Da questa sera Moby Dick è collegata Attraverso Facebook con tutti voi Andate sulla pagina di Teremoliste Ci sono già parecchi commenti Cliccate anche il mi piace L'abbiamo istituita da non molto Siamo credo a 7-8 mila mi piace già Commentate in maniera però corretta Ovviamente senza offendere nessuno E noi porteremo alcuni dei vostri commenti Sul tema della puntata Ci sono già una cinquantina di commenti Mi dicono poi li vedremo in diretta Quindi ascoltiamo Anna Maria Di Matteo La casta molisana con tutti i suoi privilegi Indennità da capogiro Rimborsi spese Ciliegina di una torta già abbondante Il ripristino dei vitalizi Proprio così Certo gli inquilini di Palazzo Moffa Si sono guardati bene dal chiamarli così Ma alla fine il risultato non cambia Le loro tasche continueranno ad arricchirsi E danni alle spalle dei molisani Che invece risultano essere sempre più poveri Ma anche più incavolati Basta fare un giro tra le bancarelle Del mercato orionale del quartiere Cep di Campobasso Per sentire che aria tira il clima Che si respira di rabbia Sfiducia e delusione nei confronti di una classe politica Che ha disatteso tutti gli impegni assunti in campagna elettorale E di aver portato l'intera regione sull'orlo del baratro Cerchiamo di eliminare il superfluo Sa però che ci sono i nostri politici Che hanno più del superfluo E che hanno anche ripristinato i vitalizi Lo sapevo? Sì che lo so Lo so E che possiamo fare? E che pensa? Penso che fanno pena Per non dire altre parole Il Consiglio regionale hanno presentato una mozione di sfiducia Per mandarli a casa Lei condivide? Io condivido molto Però non credo che se ne andranno Sono troppo comodi Ci sono difficoltà a arrivare a fine mese? Lei lavora? No, io non lavoro Sono 11 anni che sono disoccupata Cerco lavoro Però qua non si vede la strada Che pensi invece dei nostri politici Che si sono ripristinate anche i vitalizi? Meglio che non dico niente Questa cosa non voglio proprio Aprire bocca Guarda Perché insomma direbbe cose? Eh sì E' meglio di no Alcuni consiglieri vorrebbero Hanno fatto una mozione di sfiducia Per tornare al voto Lei è d'accordo? Ma non lo so Vediamo Non lo so veramente Ci devo pensare Se esce Non so se andrò a votare Oppure O sì o no Non lo so Sto indecisa E' molto sfiduciato Sì sì Molto Molto Si va nei mercatini Per risparmiare qualcosa E arrivare a fine mese? Sicuramente Qual è la situazione? Critica Lei lavora? No no Sono una pensionata Allora A proposito di pensioni Io non voglio chiederle A quanto ammonta la sua Però sappiamo A quanto ammontano Quelle dei consiglieri regionali Adesso sono reintrodotti Anche i vitalizi Lo sapeva? Sì E che pensi? Non ho parole Lo sa che in consiglio regionale Hanno presentato Una mozione di sfiducia Per chiedere Il ritorno alle urne Quindi mandare a casa Il governo Frattura Non so che dire Guardi È in merito Perché Lei tornerebbe a votare Se si dovesse tornare a votare Se è il caso Sì Lo sapete di che cosa Ci occuperemo stasera A Moby Dick Dei costi della politica Dei vitalizi Dei consiglieri regionali Che pensa? Loro se la prende A noi manda Lei è pensionata? Sì Come si arriva a fine mese Con la sua pensione? Soddisfatta? Sì Senta Tra l'altro In consiglio regionale Hanno presentato La mozione di sfiducia Per tornare a votare Lei è d'accordo? Vale Votare? Non lo so Non lo so Non serve più Ecco bravo Insomma La gente Non ne può davvero più E stanca E chiede a gran voce All'intera classe politica Di farsi da parte E restituire la parola Agli elettori Ne parliamo proprio Che ne pensi? È uno schifo Lo sa che in consiglio regionale Alcuni però consiglieri Hanno presentato Una mozione di sfiducia Per mandarli a casa Fanno bene? Molto Sì sì Tutti quanti proprio Tornerebbe a votare? No No Non ha più fiducia? No Proprio per niente Tutti a casa Grande Anna Maria Di Matteo Prometto qui in diretta Anna Maria Parlo un attimo con te Che fra 20-30 anni Quando io lascerò Telemolise Seguirai la pagina politica Va bene Azzeccata anche La musica di Pinocchio Ovviamente Rispetto alle promesse Elettorali Fatte da Paolo Fattura Io partirei Poi andiamo Sui vitalizi Perché I consigli regionali Ci tengono a dire Che non è così Che non sono i vitalizi Ne parleremo con loro E con gli ospiti In studio Però partiamo Dalla mozione di sfiducia Un atto politico Rilevante Importante Presentato Diciamolo anche questo Per chiarezza Annunciato e presentato Da Movimento 5 Stelle Movimento In sé Tutto Voglio dire E poi Praticamente Ufficializzata Con la firma Dei due consigli regionali Antonio Federico E Patrizia Manzo Ai quali Si sono uniti Anche i quattro Consiglieri di centrodestra Quello che è rimasto Della minoranza Perché due consiglieri Poi Di minoranza Sono traslocati Con Paolo Fattura Sostanzialmente Il centro-sinistra Oggi ha una maggioranza Qualificata Addirittura In consiglio regionale 15 sono Del centro-sinistra Solo 6 Sono rimasti Alle minoranze Antonio Federico Il senso politico Della vostra mozione Di sfiducia Quale è stato Ma innanzitutto È un atto dovuto Un atto dovuto Perché stiamo vivendo Un momento storico In cui Oltre alle difficoltà Ataviche Della nostra regione Che si perdono Negli anni Ma che ancora oggi Hanno dei riverberi Fortissimi Parliamo di sanità Di lavoro Di infrastrutture Qui delle risposte adeguate Non stanno arrivando C'è un momento storico In cui Le piccole realtà regionali Vengono viste Come zavorra Da eliminare Sono diversi disegni Di legge Che vengono portati avanti In questo senso Alla Camera Anche Soprattutto Da esponenti del PD E per superare questo momento C'è bisogno Di una classe politica Di una guida Di governo Che abbia una forza E una credibilità Tale Da superare questo passaggio E su questo elemento Che noi poniamo L'attenzione C'è questa credibilità C'è questa forza Perché in questi Nell'ultimo mese Soprattutto Abbiamo assistito Da un lato A un Al dileggio Del presidente Della regione Su una trasmissione Televisiva Per la quale Nazionale Per la quale Ancora si stanno attendendo Delle spiegazioni Perché il presidente Deve anche Dire ai cittadini Molisani Perché non debbano Vergognarsi di quello Che hanno visto In televisione Fare chiarezza Chiedere scusa Magari se c'è Bisogno di fare Un passo anche del genere Ma poi subentrato Anche in un altro elemento In cui c'è una contrapposizione Tra poteri Quello politico E quello dell'informazione Che è venuto forte Che è sfociato Anche in un E finito in tribunale E questo è un altro dato Molto importante Che riguarda appunto Anche la credibilità E la forza Della amministrazione Regionale Perché Al di là Indipendentemente Da quale sarà La ragione Del contenzioso E del contendere Quello che resta Sono due elementi A nostro avviso Il primo È che i cittadini Molisani Restano Spettatori inerti Inermi Di fronte a questa Contrapposizione E non riescono A vederne Un Risvolto positivo Per quella Che è la loro realtà Quotidiana L'altro elemento È che Se ci fosse stato Il Movimento 5 Stelle Al governo Non ci sarebbe stato Neanche il dubbio Neanche l'ipotesi Si poteva Paventare Del fatto Che ci potesse essere Una questione Legata Al finanziamento All'editoria Perché il Movimento 5 Stelle È da sempre Contrario Al finanziamento Pubblico All'editoria Che spesso Aiuta gli editori Ma raramente Riesce ad aiutare I giornalisti E quando Abbiamo fatto La trasmissione Elettorale Con i 6 candidati Presidenti Antonio Federico È stato l'unico Che disse Qui in diretta Non firmo L'impegno A varare La legge Per l'editoria Altri hanno firmato Poi l'hanno varata In un certo modo Vabbè Capitolo a parte Però Antonio Federico La domanda è questa Adesso Sei firme Sotto la mozione Frattura Il governatore Ha già detto Che non teme Questa mozione Anzi Chiede di anticipare I tempi Per discuterla Per discuterla E ha parlato Di mozione Ridicola Addirittura Che risponde Lei a Frattura Innanzitutto La mozione Va discussa E se vuole essere Discussa In tempi più brevi Non ci sono Assolutamente Problemi Anche perché Il tema Cioè il momento Della discussione Sappiamo bene Che i voti Sono quelli Però è il momento In cui ci debba essere Anche una presa di coscienza Di tutto quanto Il Consiglio regionale Rispetto a questa questione E a questo momento Storico particolare E su questo Che noi vogliamo andare A vedere Come si vuole porre Anche il Consiglio regionale Perché se Dovessimo andare A guardare Quello che dice Che dicono i cittadini In strada Che ci dicono Quando li incontriamo Quotidianamente Nei nostri appuntamenti Con riunioni Assemblee Banchetti A gorà Che facciamo nelle piazze Ormai da tre anni A questa parte Questo è quello Che è la sensazione Che noi abbiamo Ma il segnale Che noi vogliamo dare A questi cittadini E che noi Come Movimento 5 Stelle Come cittadini Ci sentiamo pronti A dare un cambio Drastico E per poterlo fare C'è bisogno Di tornare al voto Ed è questo Quello che a noi Preme In questa fase Gianluca Cefaratti Lei Da persona impegnata A livello istituzionale In politica Ma comunque esterna Al Consiglio regionale Come giudica Questa Mozione di sfiducia Nei confronti Di Paolo Frattura Ma sicuramente Ci sono dei risvolti Politici importanti E bene Hanno fatto A mio giudizio I 5 Stelle E anche Gli altri Quattro Rappresentanti Delle minoranze In una fase Importante Della storia Del Molise A presentare Questa mozione di sfiducia Chiaramente Parto dal presupposto Che la mozione di sfiducia Non andrà da nessuna parte Lo dobbiamo dire Perché Lo diceva lei Venicozzi Hanno una maggioranza Più che qualificata Ancora più qualificata Dico nei numeri O esclusivamente Nei numeri Da qualche settimana A questa parte Perché poi Davvero io credo Che il servizio Di Anna Maria Di Matteo Sia stato Assolutamente Percettivo Percettivo Che è palese E' evidente E' evidente La sfiducia Tanti nei nostri Piccoli paesi Guardate che le prebende Davvero sono poca cosa Rispetto all'impegno I comuni sono davvero Cosa anche ridicola Permettetemi questa digressione Rispetto al lavoro Lei come giudica Come giudica questo atteggiamento Della minoranza Ormai tutta Che ha presentato La posizione di sfiducia E' previstuoso Ha ragione Sinceramente Per me è un dolore In qualità di vicepresidente Del partito democratico regionale Avere in qualche modo Fatto sì Il consigliere Federico E gli altri della minoranza Che abbiano presentato La sfiducia E' un grande dolore Perché noi ci siamo presentati A questa regione Per cambiarla Però mi rendo anche conto Che forse Un pochino di ragione Ce l'hanno Ed è Ripeto Doloroso per me Ammettere una cosa Di questo tipo Perché è una constatazione vera Noi ci siamo presentati Per cambiare questa regione Abbiamo deciso Di impostare Un programma di centro-sinistra Per cambiare alcune cose Ma soprattutto Per migliorare questa regione E invece oggi A distanza di quasi tre anni Dall'amministrazione frattura Obiettivamente Qualche difficoltà c'è E' vero anche Che abbiamo trovato Una regione Con le gomme a terra Anche quella di scorta Era a terra E quindi Andare a rimettere Diciamo in qualche modo In carreggiata Un veicolo fermo E' stato complicato Ma tre anni sono tanti Obiettivamente sono tanti Per cui si poteva fare Qualcosa di più Era necessario E giustamente Come ha detto Il presidente Cefaratti Il servizio Della giornalista Che ha fatto la copertina E' eloquente Assolutamente eloquente La gente è stanca E' stufa E' rassegnata E questo è gravissimo Perché molti popoli Vanno alla guerra Vanno Fanno Combattono Per avere il diritto di voto Noi che lo abbiamo Lo snobbiamo Ma perché? Perché i politici di oggi Si comportano in questo modo Alcuni Perché giustamente Non tutti Sono così Mai generalizzare Non è giusto Assolutamente Assolutamente La cosa La presentazione Della sfiducia Secondo me È importante Perché si può Veramente ragionare Su quello che è stato fatto E quello che non è stato fatto Credo che la regione Si apre un dibattito politico Nel consiglio regionale Esatto Una finestra importante E da lì potrebbero uscire anche Cose positive Proposte positive Cose positive E' una finestra O anche una sveglia A chi governa Assolutamente Una finestra importante Anche perché ritengo Che la regione Non abbia In qualche modo Un modo giusto Di esternalizzare Quello che fa La regione Ovviamente intesa Come governo regionale Molte cose Che sono fatte bene Perché qualcosa Di buono È stato fatto Non riescono A tirarlo fuori Nel modo giusto Escono fuori Soltanto le cose Escono fuori Soltanto le cose peggiori Tipo i vitalizi Tipo Incarichi Ad personam Incarichi A gente di centrodestra Tutta una serie di cose Un miscuglio Assolutamente Ingiustificato Ingiustificabile Però ci sono anche cose Che sono state fatte bene Per esempio Abbiamo Ciò che è stato fatto Dall'ex Assessore Scarabeo Per quanto riguarda Le attività produttive Che sicuramente Ha cominciato A fare un percorso Sano Su certi ragionamenti Anche lo stesso L'osservatore Una rotta nuova Una rotta nuova Non si è vista Speriamo che da domani Questo possa accadere Se mi mettete in onda Qualche commento Sulla pagina Facebook Di Teremo La polizia proviamo a leggerlo Quanti ne sono Ecco qua Però non riesco Non riesco facilmente Non credo che un consigliere regionale Però questo riguarda i costi della politica Lo vediamo dopo Un commento Sulla mozione di sfiducia Se c'è Ancora non ci sono Aspettiamo i commenti Sulla mozione di sfiducia E poi andiamo ai costi della politica Non ci credono Non ci credono Ecco Il Gigi Donaglio invece Ci crede a questa mozione di sfiducia E salutare Intanto ci deve dire A chi ci ascolta Non tanto a me Ma la posizione di Sello All'interno della maggioranza Di centro-sinistra Alla regione Qual è? Intanto Sello Ha espresso dal primo giorno Una posizione chiara e netta Parlo di Sello come partito Noi siamo stati quelli che Hanno raccolto le firme Per la sanità pubblica Noi siamo quelli che Siamo stati in prima linea Nella battaglia per difendere l'ambiente Contro i costi Della politica E siamo quelli impegnati quotidianamente A portare avanti A portare avanti Battaglie Che sono battaglie storiche Della sinistra Chiaramente c'è un problema C'è un problema Con 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 Chi siede Il consiglio regionale Su questo Questo a me A me pare che sia Che sia molto chiaro Ma è un problema È un problema storico Questo Gli eletti Gli eletti Una volta eletti Non Rispondono più Ai partiti Questo vale per sé Lei ha un eletto E così regionale Però di Selle Questo vale per Selle E vale per tutti gli altri Eletti Rispondono loro stessi Forse a parte A parte Il Il Movimento 5 5 Stelle Questo è un tema È un tema storico Sono i partiti Considerati come taxi Dove uno sale Raggiunge la meta Tra l'altro scende Senza pagare Tra l'altro scende Senza pagare Per cui È un tema È un tema questo Masel C'ha una posizione Chiarissima Tant'è che più volte Abbiamo Mosso Critiche Al A certe A certe scelte Che Il Governo Regionale Ha fatto Più volte Abbiamo 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 Avanzato Proposte E abbiamo E abbiamo Detto di non Condividere Alcune Alcune Scelte E continueremo a farlo Noi Rivendichiamo La nostra Autonomia Rispetto Al Centrosinistra Che è un Centrosinistra Che non c'è più Nei fatti Che si è sciolto Nei fatti Perché quando Succede che Pezzi di centrodestra Passano Completamente Nel Dentro Il Centrosinistra Mi pare Evidente Che quel Centrosinistra Non c'è più È inquinato È inquinato E allora Rispetto A questo Inquinamento Noi non ci stiamo Noi rivendichiamo La nostra Autonomia Siccome avevamo Detto in campagna Elettorale Che Saremmo stati I guardiani Del cambiamento Siccome Noi non vediamo Questo cambiamento Sul campo Ovviamente Continueremo A dire A contestare Le cose Che non ci Convincono E a dire Bravi Quando c'è qualcosa Che funziona E quando c'è Qualche Qualche scelta Qualche scelta C'è qualcosa Che funziona Secondo lei In questo governo Insomma Ci sono Ci sono Alcune scelte Fatte Che io Ho condiviso Ci sono Alcune scelte Fatte Che io Ho condiviso Ma c'è una questione Che io Dal primo giorno Avevo Suggerito Al presidente Frattura Cioè Quella Di Quella Scelta Di fare Una Operazione Che io Chiamai Di verità E cioè Dire Al popolo Molisano Come stavano Le cose Rispetto Alle tante Promesse Che il Che il Governo Iorio Aveva Aveva fatto E dire Guardate Non ci sono più Le condizioni Per portare avanti Queste Queste Scelte Insieme Possiamo Uscire Uscire fuori Da questo Tunnel Quindi Fare una Operazione Verità Urbi Settore Ma lei Partecipa Alla Maggioranza Ancora No Come Selle Io L'ho detto Con molta Chiarezza Se Mi chiamano Per discutere Di temi Di scelte E di questioni Serie Che interessa I cittadini E i molisani Ci vado E porterò Avanti La mia Battaglia Se invece Mi chiamano Per parlare Di Poltrone E di Incarichi Non ci interessa Non siamo Interessati A poltrone E a incarichi Una posizione Chiara la sua Però A me risulta Che non l'hanno Le ultime volte Selle Non è stata Proprio chiamata A confronto Almeno Così Risulta Mi hanno Chiamato Ma non ci sono Andrò Ok Abbiamo chiarito Questo Emilia Rizzo Lei ipotizza La mozione Di sfiducia Di dimissioni Frattura Da qualche mese Diciamo E aveva Anche fissato Una data Ha fissato Una data Di presidio Del popolo Diciamo Dei suoi seguaci Dei diversi Movimenti All'interno Di Palazzo Moffa Del Consiglio Regionale Come vede Oggi La mozione Di sfiducia Presentata In Consiglio Regionale Intanto Buonasera Di nuovo Se qualcuno Non l'ha sentito Prima Non dispiacerà Ovviamente Se in qualche modo Mi discosto Dalle cose Che sono state Dette finora Ma non perché Voglio fare Quello diverso Perché ho Idee diverse E quindi Le devo Comunque esprimere Le persone Che mi incontrano Come dire Se qualche volta Mi danno la pacca Sulle stalle Perché Sanno che Non vado a dire Cose diverse Da quelle Che ci diciamo Poi quando Ci incontriamo Per strada E ovviamente Vorrei anche Rassicurare Il presidente E la sua maggioranza Che sta guardando Perché guardano Sempre Queste trasmissioni Che siano Un po' più sereni Più rilassati Piuttosto che Stare sempre Come dire A denunciare La gente Piuttosto che Confrontarsi Un invito Al dialogo Di Emilio Izzo Al governo Regionale L'invito C'è sempre stato Il problema Che loro non dialogano Questo è il problema Allora Quando il buon amico Gigino D'Angelo Dice Se mi chiamano Per parlare Di certe cose Eccomi qua Se mi chiamano Per parlare Delle altre Il problema E che io vorrei Chiedere a lui Anche agli altri Quando mai Li hanno chiamati Per parlare Di cose serie Se non solo Quelle che abbiamo Elencate finora Cioè Di spartisioni Di passaggi Eccetera Quindi Direi al buon Gigino Che forse Stanno aspettando Pure troppo Per dire Ufficialmente Noi siamo fuori Da questo tipo Di discorso Ma comunque Ognuno Se ne assume Le responsabilità Rispetto all'elettorato Ma vorrei anche Dire alla signora Che in qualche modo Mi ha preceduto Che le premesse C'erano tutte Non me ne voglia nessuno Ma quando voi parlate Di un governo Di centrosinistra Che fa alleanza Con Patricello Che è Forza Italia Non mi potete dire Che dopo Sono venuti fuori Alcuni problemi Le premesse C'erano tutte Non era un governo Di centrosinistra E non era un governo Che rappresentava La massa Degli elettori Centrosinistra Così come voglio dire Al buon amico Gigino Che anche loro Come dire Hanno sottoscritto Un atto Molto Molto Come dire Di offesa Rispetto a un popolo Di sinistra Perché poi Sello non è manco Centrosinistra E sinistra Come si fa A dire agli elettori E lo hanno fatto Dicendo che era Un nuovo Che andava Come dire A scansare Iorio Come lo scansi Iorio Mettendo frattura Che era Come dire Compagno Prima di Iorio Cioè queste cose La gente se le chiede Magari nelle interviste Non lo dicono Perché La vostra inviata Ovviamente ci prova pure Ma la gente Come sempre In questa regione Ha molto timore Magari Dice che è scocciata di tutto Ma mai A sentirgli dire Si parteciperò Dirò Sono stufa Voglio acchiapparli Per la gola Eccetera Voglio dire Siamo in una situazione Molto 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 Critica Io Quando sento La mozione di sfiducia Allora Dice l'amico Antonio Era innanzitutto Un atto dovuto Io vorrei dire Che con il volantino Che noi abbiamo preparato Per questa manifestazione Del 15 Esattamente Anticipa Di una settimana Io l'ho letta La mozione esattamente Ricalca Pari pari Le cose che Stanno scritte qui Amplificate ovviamente Perché la mozione È più dettagliata Questo è un volantino Allora Ci vogliamo prendere in giro? Allora Prendiamoci in giro Se c'è Quando voi mi parlate Adesso c'è una regione Con la maggioranza qualificata Ma vi voglio bene Ma le parole Hanno un peso Sono i numeri Ho capito Ma qualificate di che? Si sono qualificate Per la vergogna nazionale Si chiama Non può essere Non è qualificata Di niente È squalificata Allora Una maggioranza Squalificata Come quella Che c'è Alla regione Molina Se ne trova poco In giro Che poi Possono piacere O meno le parole Ma questo è E questo la gente dice Perché Quando il presidente Frattura dice Io non me ne vado Perché sono stato eletto Dalla gente Però non dice Che non va A ricomfrontarsi Con la gente Quando dice Io voglio anticipare La discussione in aula Perché mi fanno ridere Questi sei signori Che chiedono le mie Le dimissioni O comunque la sfiducia Perché vuole anticipare La discussione in aula Sapendo che acqua La famosa Maggioranza qualificata E presidente Lei non anticipa mai Una discussione in piazza Perché non viene A confrontare I suoi numeri in piazza Vediamo Se si porta La sua maggioranza A far numero Per salvaguardare Poltrone e prebende Questa è la verità Non vi confrontate Con la gente Il termometro Purtroppo ce l'avete Abbastanza chiaro Che siete al capolinea Non volete rinunciare A questi lussi Che vi siete dati A dispetto Della disperazione Che c'è tra la gente E fate anche Gli spiritosi Su qualche testata Giornalistica Amica Poi ci sarebbe Molto da dire Sulle testate giornalistiche Perché accusate Sempre questa emittente Che questa sera Mi ospita Perché dite Che praticamente Porta acqua Un certo mulino Però poi non dite Le testate giornalistiche Carta stampata Che parla sempre Solo bene Di un qualche cosa Che non fate Perché la verità È difficile Parlar bene di voi Se non fate O meglio Fate in una certa misura E le notizie Delle ultime ore Che ancora non vengono rese note Ma ormai È come dire Opinione pubblica Insomma Credo che la dicono lunga Su quelle che devono essere Non i 15 giorni Presidente Ma le ore Le ore Che lei non dovrebbe Nemmeno aspettare Che si discuta La sfiducia Lei dovrebbe Dimettersi subito Per quello che è accaduto Finora E quello che sta accadendo In queste ore È l'ultima cosa Perché poi Questo richiama Questa mancanza Di compronto Quando noi Siamo stati Più volte In regione Ai consigli Per reclamare Come dire Un compronto Per reclamare Gli stati generali Il presidente Nero La seconda volta Ha detto Testuali parole Chi c'era Io mi impegno E prima della fine Del mio mandato Voi avrete Gli stati generali Se non li avrete Perché la mia domanda Era secca Significa che non dipenderà Da me Da chi dipenderà Da chi evidentemente Questa cosa Non l'ha voluta dare Allora la domanda è Ma se tanto mi da tanto Presidente Ex presidente Nero Si dicono ancora presidente Pure quando non lo sono più Ma lei Perché sta ancora In maggioranza Perché noi dobbiamo dire Che lei Non ha mantenuto la parola O meglio Se non è stata lei Sarà stato qualcun altro Lei non può perdere la faccia Perché qualcuno Gliela fa perdere E questo lo voglio dire Però a tutti i rappresentanti Questa famosa Maggioranza qualificata Che era già squalificata prima Ma se ho fatto pure La campagna d'autunno Insomma Ma veramente Siamo proprio Alla follia Più grande Come fanno ancora I partiti A presentarsi in piazza Dicendo che loro Rappresentano Un governo di centro-sinistra Quando all'interno Di quel contenitore Non c'è più La politica Non ci sono più I partiti Ci sono soltanto Dei signori Che approfittano Di quella posizione Per incrementare Le proprie Come dire Tasche Ma voglio dire Nemmeno un futuro Non ce l'hanno Un futuro Loro hanno finito Dopo questo mandato Dovranno andare via Essere esiliati Perché hanno Ridotto Una terra A stracci E noi siamo Assolutamente Voglio dire Proprio Non ne possiamo più Difatti La manifestazione Del 15 La dirà lunga Izzo Ma voi Mantenete la manifestazione Il 15 dicembre O la spostate In rapporto Alla discussione La voce di sfiducia Allora è abbastanza La vostra È una sfiducia popolare Si è capito Non è di quella politica No Io dicevo Maggioranza qualificata È un termine tecnico Per indicare Che i due terzi Dei consigli regionali Sono con il presidente Frattura Ho capito benissimo È un termine tecnico Voi Non sarebbe opportuno Come dire Per coincidere La discussione Della mozione Di sfiducia Del Movimento 5 Stelle Del centrodestra E il presenziamento Popolare Di Palazzo Monti Allora No per alcuni motivi E tre sono veloci Uno perché È stata fissata prima E come tutte le cose Che in qualche modo Vengono fissate La gente si fa i conti Con i propri impegni Che ha già preso Due perché ho detto Che questa della sfiducia O comunque Della discussione Che ci sarà È un fatto assolutamente Diverso Da quello che può essere La piazza Tre E siccome la gente Noterà ancora una volta Della vergogna Di questi signori Che si voteranno L'autofiducia Perché questa è la discussione Si voteranno l'autofiducia Noi andremo il 15 Qualche giorno dopo A dire Siete peggio Di quelle che immaginavamo Allora Vediamo Qualche Interloguiamo Con qualcuno Se mi passate Qualche messaggio Lo leggiamo Comunque Al di là del tema Vediamo Vediamo in onda Vediamo un attimo Allora Eccola qua Non Se muovete Michelangelo Nardella Presidente I redditi di cittadinanza Come ha fatto Emiliano Con le parole Non con le chiacchiere Quindi ci vuole Anche i molise Ok Andiamo avanti Emiliano Rocco Conosciamo Allora Io penso che 4500 euro Lordi Siano sufficienti Per i consigli regionali Sta anticipando Il tema Dei costi Della politica Se mi scordete Ne leggo un altro C'è Anna Palladino Ho votato Per Paolo Frattura Ma Me ne pento Amaramente Delusione Su tutti i fronti Il PD Molisano È allo sfascio Un consigliere Regionale Dovrebbe guadagnare Quanto il sindaco Del comune Capoluogo Della regione Di riferimento Ci fermiamo qui Per adesso Ci fermiamo qui Per dire Che Lo stipendio Dei consiglieri regionali E del presidente Della giunta Equiparato ai sindaci Dei comuni Capoluogo Di regione È previsto Nella riforma Costituzionale Che è In discussione Ovviamente In Parlamento Ma Ci vuol I tempi I tempi Sono lunghi Per approvare Definitivamente Una riforma Costituzionale Ci fermiamo Pubblicità Allora PA Digitale Adriatica Innovazione Competenza Professionalità L'informatizzazione Al servizio Della pubblica Amministrazione E delle aziende pubbliche Zero cartaceo Tutto in digitale Il futuro È già presente PA Digitale Adriatica Contrada Colle delle Api Campobasso Telefono 0874 1835 001 La cioccolella A vasto marina Propone Una ristorazione D'autore In perfetto equilibrio Tra ricerca Tradizione E innovazione Il servizio impeccabile E la posizione In riva al mare La rendono Una location Da sogno Per matrimoni In spiaggia Cerimonie E grandi eventi Tenaci Semplici Un po' ruvidi Ma pronti A buttarci A capofitto In tutto quello Che facciamo Con le radici Nella tradizione Lo sguardo Sempre pronto A cogliere forme Nuove E la passione Per le cose Fatte bene Per questo Usiamo i grani Migliori al mondo Dal 1912 E solo acqua cristallina Delle sorgenti Del Matese In Molise In Molise siamo così Anche a tavola La molisana Scopri di che pasta Siamo fatti Il valore di un ricordo È possibile Chi ha già scelto GMC Lo sa E tu GMC I marchi La bellezza Lo stile Stufe Camini E caldaglie A legna Pellet e gas Termoarredo Solare termico GMC Specialisti del camino E la competenza Per isolamenti Cappotti termici Infissi ad alte prestazioni Prima Passa da GMC A taverna del cortile Di Ripa Limosani Il 12 dicembre Viscovo ti invita a cena Manca poco Alla grande cena spettacolo Nelle sale Delle hotel Europa Ospiti speciali I chiattoni animati Risate A tutta Pancia Spendi almeno 450 euro Iva inclusa E ricambi Accessori da Viscovo E vieni a cena gratis Anche per scontreni Multipli Regolamento In punto vendita Viscovo Rampa Santa Maria Delle Monache Isernia La tua giornata Si muove sulle gambe E noi lo sappiamo bene Gonfiore Dolore Varici Ulcere I problemi sono diversi Ma WSK Medical Li affronta subito Con un team di specialisti In cardiologia Geriatria Chirurgia Allergologia Ortopedia Ostetricia Alimentazione WSK Medical Centro medico Angiologico Flebologico Con approccio Multispecialistico In Viale Manzoni 71 A Campobasso Damico Arreda Organizza nel suo nuovo showroom Di Civitanova del Sannio La quarta edizione Di White Wedding Luxury Domenica 22 novembre Dalle ore 11 Fino a tarda sera Fashion show Miss Kelly Sposa Ospite d'eccezione Il nonno moderno Direttamente da Made in Sud Damico Arreda Vi aspetta con altre Mille sorprese Il Vaiont di tutti Quando rileggere la storia Diventa un percorso originale A tratti avvincente Cronache addolcite Da sorrisi quotidiani Speranze di uomini Pronti a rialzarsi Il 28 novembre All'auditorium di Sernia Il Vaiont di tutti Riflessi di speranza Il fascino di una produzione inedita Musiche originali Suonate dal vivo Scenografie che portano lo spettatore Fin dentro al racconto Una presentazione di Cruder Abbigliamento uomo Campobasso Drenante e disintossicante Antiartrosica Antistress Le proposte salute mirate Realizzate dagli specialisti Della Domus Medica E seguite dalla qualificata Equip Nell'elegante e moderno Centro fisiotermale Balneoli Sette giorni di trattamenti Relax e benessere Sei notti con pensione completa Presso il Domus Hotel Pluripremiato 4 stelle A Bagnoli del Trigno Nel cuore del Molise Info www.domusareabagnoli.it Scopri Galba Cotto Il prosciutto Cotto al vapore per 15 ore La fetta golosa Dolce e naturale Che piace a tutti Galba Cotto Il buonissimo al vapore di Galbani E ora Prova il nuovo cotto di Tacchino Galbani Discussione accanita anche durante la pausa pubblicitaria Abbiamo i collegamenti Il professore della morte Chiedo esattamente un minuto di attesa Al professore Perché voglio leggere altri commenti Sono tanti i commenti che stanno arrivando Vi ricordo Pagine di Facebook di Telemolise Anzi vi invito Vi ricordo Cliccate il mi piace sul Telemolise E ve ne saremo grati Allora Dalile Gerano di Cicco Sui costi della politica Dice per me Dovrebbero guadagnare 495 euro al mese Come la pensione di un povero artigiano Vabbè Un po' esagerato Gianna Simiele Allora Secondo me Dovrebbero guadagnare 5.000 euro al mese E basta Senza extra e altro E poi Secondo punto Secondo punto Da discutere E una trasmissione Non basterebbe Ha rovinato una regione In tutto E non dimentichiamolo Che era uno dei bracci destri Di orio Braccio destri di orio Va bene Va bene Andiamo avanti Michele Salvatore Perché Telemolise Non pubblica i nomi Di chi ha appoggiato La legge sui vitalizi L'abbiamo detto Michele Lo diremo anche stasera Tra un po' Che parleremo Dei vitalizi Ancora Chi ci sta Giuseppe Giuseppe Limoncelli La sfiducia Un buco nell'acqua Quindi Non ci crede Simone Cretella Noto consigliere comunale Del Movimento 5 Stelle Chiede a D'Angelo Gigino D'Angelo 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 dice Che la riduzione Dei costi della politica È una battaglia storica Della sinistra Ma cos'è? Scherzi a parte Per adesso ci Poi risponde Gigino Per adesso Poi risponde ovviamente Andiamo in onda Mettiamo subito Il collegamento Con il professor Della Morte Che ripeto Michele Della Morte È docente ordinario Di diritto costituzionale All'Ulimol Di Campobasso Professore Buonasera Buonasera Dottore A lei I suoi ospiti E gli ascoltatori Naturalmente Buonasera Si trova fuori regione Diversamente Sarebbe stato con noi Qui in studio E per noi sarebbe stato Un piacere Io ho subito Una domanda da farle Non so se lei ha saputo Nel Molise In regione Sei consigli regionali Hanno presentato Una mozione di sfiducia A giorni Il regolamento Dice Entro 15 giorni Insomma A giorni Verrà discussa Che significa Una mozione di sfiducia Da un punto di vista Giuridico E da un punto di vista Politico Professore Allora La mozione di sfiducia È un istituto tipico Del governo parlamentare Che naturalmente Interrompe Il rapporto fiduciario Che le Camere Instaurano con il governo Questo a livello nazionale Ha un significato Diverso Nell'ambito regionale Perché Nell'ambito regionale Gli statuti Sono liberi Di determinare La forma di governo Della regione Ed essendo Tutti gli statuti Approvati Dal 1999 Avendo tutti gli statuti Optato Per un regime Chiamiamo per semplicità Presidenziale Naturalmente La mozione di sfiducia Che è un istituto Tipico Del regime parlamentare Si innesta In un impianto Di tipo presidenzialista Ed è per questo Che la Costituzione Prevede L'articolo 126 Il secondo comma Che venga votata Con delle maggioranze Particolari Rispetto a livello nazionale Cioè Che sia presentata Da un quinto Dei componenti E che sia motivata Naturalmente In maniera significativa E che sia approvata Con la maggioranza Assoluta Questo non avviene A livello nazionale Bene stabilirlo La sfiducia Della camere Del governo In ambito centrale E basta La maggioranza Simplice Questo naturalmente Determina Gli effetti politici Molto diversi Ecco Professore Però Qui Nella discussione Che c'è stata Premesso che Il centro-sinistra Che governa La regione Molise Ha una maggioranza Io ho detto Qualificata Perché con alcuni passaggi Cambi di casac Come si suol dire Su 21 consiglieri In tutto 15 sono Di centro-sinistra Poi Qualche ospite Mi ha corretto Una maggioranza Squalificata Perché hanno cambiato Casac A proposito di questo Professore Ma è corretto Che un consigliere Un parlamentare Eletto Con un partito Addirittura poi Vada a sostenere La componente opposta Cioè quella Che ha combattuto In campagna elettorale Ma questo Diciamo Sono argomenti Molto Molto Classici Da un punto di vista Costituzionalistico Il divieto di mandato Opera anche in sede regionale Il divieto di mandato Imperativo Per cui naturalmente L'interesse regionale È un interesse Preminente Rispetto Alla indicazione Del partito Diciamo L'indicazione Comunque L'appartenenza Ecco Il consigliere Rispetto al partito Che l'ha eletto Naturalmente Il discorso Si è poi risposto Sul piano politico È molto diverso Dovendo poi agire Dovendosi confrontare Con le regole interne Di organizzazione Dei singoli partiti Che però Diciamo Lo ricordo a tutti Rimangono associazioni Non riconosciute Nel nostro sistema È questo il guaio E a proposito Di maggioranza qualificata Che sicuramente Rigetterà La mozione Di sfiducia In questo caso Alla regione molise Perché Un presidente Eletto dal popolo Con la riforma Costituzionale Degli anni passati Può essere sfiduciato Dal consiglio regionale E non dal popolo Attraverso Un referendum Questo dicevo Questa è una parte Diciamo Particolare Della riforma Del 99 E del titolo quinto Naturalmente Cioè Si innesta Un istituto tipico Del regime parlamentare Su di un impianto Presidenzialista I motivi sono due Da un lato Si è voluto Evitare che Diciamo Come proprio Dei regimi presidenziali Potessero esserci Altre forme Di attivazione Della responsabilità Politica del presidente Per esempio Il famoso Recall Cioè l'idea Che gli elettori Tornino secondo scadenze Prestabilite O qualora Ci siano Delle maggioranze Qualificate A richiedere Diciamo La dimissione Direttamente Il popolo Insomma Che sia A richiedere La dimissione Del governatorio Del presidente Questo Funziona così In molti stati americani In Italia Si è preferito Non farlo Perché insomma La democrazia Partecipativa O la democrazia Diretta Diciamo Non è La componente Principale Del nostro sistema Costituzionale Né a livello centrale Né regionale È una forma Di integrazione Della rappresentanza Dall'altro Si è voluto Comunque Salvare Lo strumento Cioè mantenere La mozione Di sfiducia A livello regionale In questo modo Diciamo Non si interrompe Il circuito fiduciario Che esiste Tra consiglio E presidente Nonostante I vantaggi Innegabili Insomma Il surplus Di valore Innegabile Dell'elezione Diretta Perché l'elezione Diretta Infatti Si prevede Una mozione Di sfiducia Che sia approvata Con la maggioranza Assoluta Naturalmente Questo è un elemento Molto significativo Perché una cosa È votare Una mozione Di sfiducia Con la maggioranza Assoluta Altra Completamente Votarla Con la maggioranza C'è la maggioranza Dei pretenti Insomma In aula Emilio Vizio Ho capito Voleva fare La domanda Professore Ovviamente Si distingue Sempre nelle schifezze Non c'è Uno strumento Che garantisce Voglio dire Il popolo No Come dire Un popolo Che assiste A quello Che noi stiamo assistendo Non ha strumenti Per rimettere In discussione L'ultima domanda Professore Non è di natura Giuridica Ma Lui è un attento Osservatore Mi permetta di dire Una cosa Dottore Naturalmente Una cosa Di ordine generale E bisogna Stare sempre Molto Molto cauti Quando si nomina Il popolo Perché insomma La Costituzione Questa non è Naturalmente Un'indicazione Di tipo Assolutamente Generale Spesso Si ricorda Il primo articolo Della nostra Carta Costituzionale Che la sovranità Aspetta al popolo Molto Meno Spesso Si ricorda Che Lo stesso Primo articolo Della Costituzione Italiana Prevede un comma Secondo Che dice Che la sovranità Si esercita Nei limiti Stabiliti Dalla Costituzione Cioè Il popolo È titolare Della sovranità Ma esistono Dei limiti Funzionali All'esercizio Della sovranità Che caratterizzano Il nostro sistema Costituzionale E giustificano L'ordinamento Rappresentativo Questo è molto Importante Da ricordare Soprattutto In questo momento Significa che noi Ricordiamo solo Il comma secondo In Italia No Dice che c'è Anche il comma secondo Giustamente C'è solo quello Professore Un'ultima domanda Un'ultima domanda Che non c'entra niente Col suo sapere giuridico Che è eccezionale Ma E quindi Non vi posso aiutare No Da attento osservatore Da attento osservatore Una mozione di sfiducia Presentata A qualsiasi Livello istituzionale Se respinta E respinta In maniera Come dire Con grandi numeri Rischia poi Di rafforzare Colui che doveva Essere lo sfiduciato Guardi dottore L'utilizzo Degli strumenti Costituzionali L'effetto Conseguente All'utilizzo Degli strumenti Costituzionali Non è mai Prevedibile Ci sono state Diciamo La prassi Ha dimostrato Soprattutto Diciamo Sul piano nazionale Che le aspettative In tema Di utilizzo Degli strumenti Costituzionali Sono state Molte volte Deluse O altre volte Diciamo Sono comportate In maniera Molto diversa Rispetto a quello Che pensavano I proponenti Per cui Quando si utilizza Uno strumento Quando si mette in mano Lo strumentario Garantisce Come ho contemplato Nella nostra Costituzione Lo ha fatto sempre Con grande cautela Per cui Non sono assolutamente In grado Di rispondere Alla sua domanda Se non Nella misura In cui Ci ha composta Un'attenzione Particolare Dei rappresentanti Insomma Di chi fa parte Di chi è Componente Delle istituzioni Ad utilizzare L'armamentario Previsto Alla Costituzione Benissimo La ringrazio Grazie professore Ringrazio io Lei E tutti i suoi ospiti Buona serata E buona permanenza Arrivederlo Antonio Federico Chiudiamo sulla mozione Di sfiducia Una sua riflessione Ultimativa Rispetto A quello Ultimativa Su questo argomento Rispetto Rispetto a quello Che vi aspettate Da questa mozione Di sfiducia Realmente Ma ripeto Quello Di là Di una questione Di copyright Con Emilio Che l'aveva già preparata Ma benissimo Perché lo scoprivo Stasera Quello che Deve Venire fuori C'è il senso Di tutto questo Della nostra azione Politica E' quello di dare Un messaggio Ai cittadini Il messaggio deve essere Noi Non siamo più convinti Che questo governo Abbia la credibilità E la forza Di poter risolvere I problemi Dei cittadini Noi abbiamo Questa convinzione E su questa Questa convinzione Sembra volerci seguire Il centrodestra Perché ha sostenuto Con le firme La mozione Il centrosinistra Cosa crede Cosa pensa Voterà E quel voto Poi sarà anche Determinato E si porterà Dietro questo voto Per il resto Della legislatura In cui ci sarà Una responsabilità Precisa Perché in un determinato Momento Tu hai deciso E hai scelto Nella tua facoltà Di consigliere regionale Che questo governo Abbia la credibilità E la forza Di poter Trascinare Il Molise In questa sfida Così importante Che non è quella Del Partito Democratico Del Movimento 5 Stelle Dei vari comitati Ma è quella Dei molisani Una sfida su tutti E quella sulla sanità Perché se no Non mostriamo Credibilità E forza Noi perdiamo Uno strumento Importantissimo Il servizio principale L'obiettivo principale Il quale esistono Le regioni La sanità Il martedì prossimo Ci sarà un appuntamento Importante Al quale ci si deve sedere Poi ne parleremo Venerdì prossimo Ci si deve sedere Con l'adeguata Credibilità E forza istituzionale Questo è quello Che vogliono avere I molisani Come risposta È quello Che non stanno Avendo adesso Ovviamente Ciascun consigliere Regionale È libero Di difendere Se stesso La coalizione Che rappresenta La poltrona Gli stipendi Tutto quello Che volete Ma è vero Quello che dice Antonio Federico Ciascuno Si assumerà La responsabilità Per i prossimi Due anni e mezzo Nessuno potrà dire Il giorno dopo Quanto opera male Il governo Frattura Se l'hai sostenuto Con la fiducia Non è che si può Tanto più parlare Allora Un giro veloce Adesso Con Gianluca Cifaratti Se lei fosse In consiglia regionale Voterebbe la mozione Di sfiducia Assolutamente sì E invece La vicepresidente Del PD Che farebbe? Ascolterai Le motivazioni Del presidente Frattura Perché ripeto È momento di confronto Se si impegna Se si dovesse impegnare A migliorare Da qui Ai prossimi due anni e mezzo Perché poi Obiettivamente Una legislatura Va vissuta fino in fondo Errori ce ne sono Lo abbiamo già detto E lo ribadisco Assolutamente Però Una legislatura Va valutata A fine A fine mandato E quindi Probabilmente Come PD Non voterei La sfiducia Però sarei lì Con il pungolo A A tirar giù Diciamo Un pochettino Di Darei qualche botta In più Al presidente Affinché si svegliasse Il programma elettorale Era tutta una promessa Per la verità Era una cosa seria Perché l'abbiamo scritta A più mani Ecco perché Io sono estremamente Arrabbiata E ho preso le distanze In modo netto Perché lei Giustamente A inizio Serata Ha fatto un'affermazione Ero fuori da un po' E io sono fuori da un po' Perché sono PD In quanto io non esco Sono una persona Che l'ha fondato Il Partito Democratico E non me ne vado Da questo partito Mi devono cacciare A calci nel sedere Scusate il termine Io non vado via da qui Perché è il mio partito Ma non condivido Quello che loro Stanno facendo Per cui rimango Tranquillamente In ignoranza Aspetto Valuto E poi si vedrà Ma comunque D'Angelo Lei così Regione Voglio dire Le battaglie Si fanno In aula Si fanno In aula Battaglie Sulla sanità Antonio Federico Di battagli in aula Ne ha fatte tanti Il problema Sono i numeri Alla fine Ma i numeri A prescindere Non ci sono I numeri Non ci sono Le battaglie Politiche E i numeri Si costruiscono Sui temi Allora Quindi lei darebbe La fiducia A frattura No no Attenzione Il tema Non è Il tema Non è Dare o non dare Fiducia A frattura Il tema è Oggi Siamo Di fronte A un dramma A un dramma C'è un Molise Che sta Morendo C'è un Consiglio Regionale Che arranca Che sta In difficoltà Su tutti i temi Tant'è che Che è Concentrato Su altro E allora Rispetto a questo Scenario Che cosa chiedo Io chiedo L'azzeramento Di questa giunta Chiedo Di fermarci Un attimo Per dire Che è successo In questi Due anni e mezzo Che abbiamo fatto Che è stato fatto Il programma Qual era L'impegno Qual era Che cosa Abbiamo Costruito E se il caso Chiedere scusa Azzerando il tutto Ripartendo Fissando Alcuni punti Punti Fermi E se ci sono Le condizioni E i numeri Davvero Bisognerebbe Voltare Pagina Decisamente Voltare Pagina Dieci secondi La risposta A Simone Cretella Siamo su scherzi A parte La sinistra Che punta A ridurre I costi Della politica La sinistra Io che sono Il segretario Regionale Di SEL Ho fatto A spese Mie Il giro Dei 136 Comuni Per raccogliere Firme E senza Che nessuno Ci ha dato Un centesimo Per cui Questi Sono Fatti Cretella Parlava di Sinistra In generale Evidentemente Anche rispetto A quello Che sta succedendo In Italia La domanda Prego La sinistra Non c'è più Prego Prego La dobbiamo Costruire La dobbiamo La stiamo Costruendo Ricostruendo Questa è una sintesi La stiamo Ricostruendo Drammatica Ma veritiera Dica signora L'istituto Della sfiducia Fa parte Della democrazia Fa parte Della politica Ed è giusto Che sia così E che venga utilizzato Dai consiglieri Di minoranza Quello che io Mi domando E dico È perché Per riallacciarmi Al ragionamento Dell'amico Gigino D'Angelo Che sicuramente Non mi ha mai visto Una sua panza Svegatata È vero Gigino Certo che no È una di centro-sinistra Lei ci viene a dire Viene dalla margherita No vabbè No vabbè No Viene dalla margherita Per essere precisi No io abbiamo la scorsi Cognito D'Angelo Quindi sicuramente Non sono una sua panza Non lo sono mai stata Però obiettivamente Lui ha ragione Quando dice Non è questione Se votare o meno La sfiducia E i consiglieri Regionali Di maggioranza Tutti Anche i due Le due new entry Dovrebbero Vabbè Le due new entry Si sono candidati Con un altro programma Le due new entry Si sono candidati Contro frattura I nostri del centro-sinistra Uno sosteneva Il candidato Massimo Romano E l'altro Sosteneva il candidato Michele Iori Voglio dire Però la maggioranza Normale Tra virgolette Del centro-sinistra Sono loro Che dovrebbero In qualche modo Interrogarsi Come dice Gigino D'Angelo Di prendere Quel famoso programma Di centro-sinistra O di coalizione Chiamatelo Come vi fare Perché tanto ormai I partiti Sono quello che sono Il nostro è A tappeto Sul presidente Quindi insomma Non è un partito In quanto tale Allora uno Dovrebbe farsi Un attimino Un esame di coscienza E dire Io mi sono candidato Con quel programma Per realizzare Quelle cose Ci ho messo La faccia Ho portato i voti Anche perché Obiettivamente Il consigliere regionale Devi scriverlo Il nome della persona Perché venga eletto Quindi c'è stata Una scelta Ben definita E chiara Di coloro i quali Hanno scritto Di coloro i quali Gli elettori Intendo Che l'hanno votato Che lo hanno votato Hanno votato quella gente Quelle persone Nel momento in cui Si faccia un momento Un esame di coscienza E dica È quello il programma Che abbiamo realizzato Come dice Gigi Noa In due anni e mezzo Che cosa abbiamo fatto Ecco io punto su questo Perché io personalmente Su Facebook Ci vado spesso Ho chiesto scusa L'ho letto Io ho chiesto scusa Perché obiettivamente Non mi riconosco In questa situazione Però guardi Guardi carriera Oggi Paolo Frattura Rispondendo Alla mozione di sfiducia Ha detto I molisse Sta crescendo Lo ha detto Contento lui Io non lo so Se i molisse Sta crescendo Giudicatelo voi Ma a me non sembra Per la verità È in continua espansione Sì certo Per alcune cose Sì cresce Di sicuro Certo Perché dobbiamo andare Con le macro regioni Già ce l'ho lei Aveva finito Anche su questa Su questa storia Che cambiano partito Cambiano casac L'etica Ha un valore ancora Per me E quando E quando uno Si candida Stipula Stipula un patto Col cittadino E dice Ti chiedo Il voto Il voto In cambio Di un mio impegno Su quel programma E con quel partito Però lei Lei pure è un po' Troppo rigido Ma tenga conto Che uno dei due È rimasto vicepresidente Del consiglio Questa è stata La contropartita L'altro Eletto nel centro-destra Ha avuto la presidenza Della commissione E secondo lei Perché Sono anche Come dire Appannaggi economici In più Perché c'è L'indenità di funzione Secondo lei Perché gli intervistati Tutti Io lo so bene Tutti Io lo so bene Io lo so bene Han detto Noi non voteremo più Io lo so bene A lei la domanda Non gliela faccio Lei voterebbe La mozione di speduzione Io invece La farei la domanda E allora Mi risponda Perché Sentivo dire Della signora Che ovviamente Un governo Va giudicato Alla fine del mandato Perché Come dico Ci sono ancora I tempi Per fare delle cose Ma se In due anni e mezzo A questo punto Andiamo verso i tre C'è stato il nulla Ai cinque Ci arriviamo Con il disastro Quindi voglio dire Molto meglio Fermarsi prima Ma la domanda è questa Lei per pochi voti Non è entrata in consiglio Sì La domanda Rimane questa Se fosse entrata Oggi Stava ancora in maggioranza O stava all'opposizione Probabilmente Sarei stata In maggioranza Votando contro Su determinate situazioni Con lo spirito critico Che le appartiene Con lo spirito critico Perché io sono critica Sempre sulle cose Che non mi piacciono Io non mi Ringraziamo Dio Non sono sul libro Paga di nessuno E questo mi Facilita molto Perché io non sono In vendita Lei si ricordi sempre Che per qualcuno Che viene comprato E perché alle spalle C'è qualcuno Che si vende O meglio Il contrario Per chi si vende C'è perché c'è qualcuno Che compra Questo è assolutamente importante Oggi è così Perché se due persone Come ha detto Parole di Minicozzi C'è qualcuno Che è andato di là Per la commissione E per quell'altra cosa Il problema Io sarei rimasta Comunque in attività Perché il mio partito Criticando E laddove c'è necessità Di votare contro Avrei votato contro Senza problemi Su determinate situazioni Avrei votato contro Diamo due minuti esatti Per il Molise È stato una E attura Lui e tutti i suoi soci Va beh Giudizio del nostro Degli spettatori Rositelli Uno stipendio Di un dirigente E spese in gruse Non vitalizio Ma solo pensione Per età Ok Lidia Casdia Mi piacerebbe Che avesse un compenso Sulla base dei risultati Prodotti Ma è solo un sogno L'ultimo Leggiamo l'ultimo Filomena Macchiarolo Sono d'accordo con Lidia Sarebbe questa La giusta misura Sui risultati Sorvoliamo Sono solo Da mandare a casa Va beh Pareri dei nostri Degli spettatori In totale libertà Ovviamente Adesso Noi dobbiamo Introdurre L'altro argomento Che ha fatto Molto discutere Anche le interviste Fatte a Anna Maria Di Matteo La dicevano La dicono chiara Insomma Degli spettatori Gli intervistati Sono Abbastanza Abbastanza scontenti Di come vanno le cose I vitalizi Per qualcuno Non si chiamano Vitalizi In effetti Non sono come I vecchi vitalizi Ma sono rapportate Una contribuzione Che fanno I consigli regionali E la regione Cioè noi Per avere poi Una rendita A 60 O 65 anni Un solo mandato Bisogna aspettare 65 anni Due mandati Bastano 60 anni Per avere poi Il vitalizio La rendita Vita Non chiamiamolo Vitalizio Per carità Ma di fatto Si traduce In questo Come nasce Il vitalizio Allora Io chiederei Alla regia Di mandarmi La prima slide Documentando Con carta alla mano Sempre Prima slide C'è una legge Di stabilità Approvata Nel mese di maggio Del 2000 Eccola qua 2000 Di quest'anno 2015 Agli articoli 11 E 12 Si regolamenta Si dà L'avvio Alla possibilità Per i consigli regionali Prevista Dal decreto Monti Di istituire Una pensione Diciamo Per loro stessi Di tipo Contributivo In base Ai contributi Versati Benissimo Passa del tempo E il 15 ottobre Andiamo alla slide Successiva L'ufficio di presidenza Vedete Alla vigilia Del rinnovo Diciamo Il 15 ottobre Era il vecchio Ufficio di presidenza Ovviamente All'unità Delibera Di attuare Il sistema Providenziale Per tutti i consiglieri A partire Ovviamente Dalla data Di proclamazione Degli eletti 16 marzo 2013 Andiamo alla slide Successiva Che succede? Come si finanzia Questo vitalizio? Ecco Ogni consigliere Regionale Pagherà Dal primo novembre In avanti 528 euro Al mese Di contributi Dal primo novembre In avanti E deve pagare Gli arretrati Dal 16 marzo 2013 Alle 31 ottobre 2015 Paga di arretrati Andiamo alla tabella Successiva Paga Dovrà versare 16.000 Ecco la prima parte Riguarda I consiglieri Versamento L'oro 16.696 euro Anche rateizzate Per sanare Metà legislatura Il consiglio regionale Cioè noi Le casse pubbliche Dovranno versare 49.915 euro Che significa Per un totale Di metà Legislatura Dal 16 marzo Al 31 ottobre Di 897.632 euro A carico Della collettività Ovviamente Per l'altra metà Che manca A fine legislatura Saranno ancora 800 900.000 euro Quindi 1.800.000 euro Per l'intera legislatura Passiamo Alla slide Successiva E vediamo Il costo Complessivo La quota A carico Dell'anno 2015 2016 E 2017 Ma anche Il 2018 Ma il totale È quello Che vi ho detto Prima Cioè 2.7 Vediamo La slide Successiva Il totale Deriva Da questa Percentuale 8.80% Si paga Di Contribuzione La quota A carico Del consiglio regionale È 2.75 Volte La quota Che paga Il consiglio regionale Per cui Se il consigliere Paga 1 euro Di contributi Il consiglio Le casse pubbliche Pagano 2.75 Ecco Quei rapporti E quei numeri Che vi dicevo Prima Allora Finito Fermate Fermiamoci Con le slide Finite Con le slide Finito Con le slide Adesso Parliamo Con Antonio Federico Che si è opposto Anche il centro-destra L'ascoltatore Ci chiedeva Chi ha votato A favore Ha votato A favore Tutto il centro-sinistra Si sono opposti Sugli articoli Specifici Il centro-destra E il Movimento 5 Stelle L'Antonio Federico E Patrizia Manzo C'è stata anche un'altra battaglia In consiglio Antonio Federico Ce la può ricordare Quando si è istituito Il vitalizio Con la legge finanziaria Di quest'anno La percentuale prevista Di contribuzione Era del 22% Se ricordo bene Federico La proposta Era del 22% Il testo iniziale Se non ricordo male Era il 20% Versava il consigliere Il 40% Stiamo parlando Il 40% E l'imponibile Il doppio Certo Il 40% Dell'indennità di carica L'orda Cioè di 6.000 euro L'indennità di carica 6.000 euro Poi lo vedremo dopo Quindi il 40% Lo versava Il consiglio Avrebbe dovuto versarlo 2.400 euro al mese E il 20% Il consigliere Regionale Questo Perché C'è la Questa riforma Dei vitalizi Nasce dal Decreto Monti E lo ha detto Decreto Monti Quando intervenne Lanciò questo Spot Chiamiamolo così In cui disse Stoffa i vitalizi Eliminiamoli Quindi da oggi in poi Nessuno dei nuovi Consiglieri Regionali O parlamentari Che entreranno in carica Dalle future Legislature Potranno godere Di questo beneficio Sono stati Fatti salvi I diritti acquisiti Ma su questo Poi ci torneremo Con una piccola Parenza La voglio aprire E si è lanciato Si è sostituito Questo sistema Retributivo Con un sistema Contributivo Che è diventato Obbligatorio Per tutte le regioni Da dove era Appluare Obbligatorio Per tutti i lavoratori Lo è Il sistema Contributivo Il dubbio è Federico Ma l'eletto Che tipo di rapporti Lavoro ha Con la struttura Con l'istituzione Non è dipendente Cioè lei non è un dipendente Del Consiglio regionale Come nessun altro Sono un dipendente Di cittadini molisani È un cittadino molisani No sono un dipendente Dei cittadini molisani Lei si Come Movimento 5 Stelle No 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 Tutti gli eletti In teoria Sono dipendenti Perché sono Ma non c'è Rapporto di lavoro È un rapporto Di rappresentanza È vero che nasce Il decreto mondi Ma se andiamo Io quello che però L'elemento sul quale Ci si deve sottolineare Tutta la questione Perché se da un lato Se non si parla Di vitalizie Perché Quello che sarà Poi la rendita Non è assolutamente In base ai contributi Non sarà assolutamente Paragonabile a quello Che era prima Ma c'è un elemento Importante Sul quale noi Stiamo continuando A fare battaglia E vogliamo presentare Anche un disegno Di legge Perché poi In consiglio regionale Con le leggi Si porta avanti La carretta Non con altro E quindi Quello che noi Andiamo a contestare Contestiamo all'epoca Contestiamo adesso È che se da un lato È vero che È sacrosanto Il fatto che ci sia Una continuità Contributiva Per esempio mio Perderei 5 anni Di contribuzione Per stare In consiglio regionale Quindi è sacrosanto Una continuità Contributiva Al pari Di qualsiasi Altro lavoratore Ma non è possibile Che in 5 anni Si maturi Il diritto Ad avere una pensione Seppur minima Possono essere 300, 500, 1000 euro Non è interessante Questo È il fatto che In 5 anni Non esiste Nessun lavoratore Che riesca a maturare Il diritto A una pensione E questo è l'elemento Sul quale Noi vogliamo Insistere E vogliamo inserire La possibilità Di rendere Opzionabile Questa scelta In maniera tale Che poi ogni consigliere Vada a scegliersi Un suo sistema Contributivo Se lo vuole Se vuole dare Continuità Alla sua Posizione Contributiva Con l'Inps Altrimenti Però si deve dare Questa possibilità Di scelta Come c'è In altre regioni D'Italia Affinché si possa Fare Si possa dare Un risparmio Anche alle casse regionali Perché c'è una parte Importante Certo Se una parte Se la metà Dei consiglieri Rinunciasse A questa forma Previdenziale Si dimezzerebbero I costi Per il consiglio regionale E poi aggiungo di più L'anno scorso Abbiamo presentato E qui faccio Un nostro Mia colpa Perché dovremmo spingere Ancora con più insistenza Una proposta di legge Che è depositata Per L'abrogazione Retroattiva Dei vitalizi E andiamo a superare Il concetto Del diritto acquisito Su un Semplicissimo Concetto Scusate il gioco di parola Sul fatto che Se io Ho versato 100 E ancora Non percepisco Un vitalizio Ti restituisco I 100 Che hai versato Ma se tu Hai versato Rivalutati Se tu però Hai versato 100 E stai Prendendo già I vitalizi E hai già Intascato 150 Beh Quei 50 Me li restituisci Perché quello Era il sistema Retributivo Che ti permetteva Di avere Questo sbilanciamento Su questo elemento Potremmo Far passare Questa legge Anche in termini Di costituzionalità E in termini Anche Erariali Tra l'altro Ricordiamo che Sui vitalizi Precedenti Quelli pregressi Non questi nuovi C'è un disavanzo Per ogni anno Nelle casse pubbliche Di oltre 4 milioni Di euro Adesso ci mettiamo 2 milioni di euro Ancora circa Arriviamo a 6 Insomma Con queste qua 2 milioni di euro In 5 anni Per la verità Allora Andiamo La proposta di legge Che voi avevate annunciato Sulla volontarietà Ci sarà O ci sarà Una proposta vostra Assolutamente Sì È una proposta di legge Che Andiamo a presentare Adesso O presentiamo In legge finanziaria Perché è semplicemente Un articoletto Da cambiare La dicitura E quindi È un tema Che è molto semplice Se si vogliono fare Questo tipo di riforme Si possono fare Molto velocemente E si può dare Una possibilità Se poi non dovesse essere Questa la strada Che si vuole scegliere È comunque Il Consiglio regionale Che è sovrano E fa la scelta Certamente Un giro veloce Con gli ospiti Sui vitalizi Poi cambiamo argomento Allora Vitalizi Lo ripeto Si chiamano Sistema contributivo Sistema reprendiziale Contributivo Però Trattandosi di un politico Ovviamente La parola vitalizi Viene spontanea Prego A me sembra molto sensata La proposta dei 5 Stelle Insomma Perché capisco che In politica Ci può essere Una parentesi Della propria vita Che dura 5 anni E quindi Voglio dire Chi deve maturare Dei contributi Ai fini pensionistici È giusto Che li abbia pure Però adesso Ha ragione Antonio Federico Il Movimento 5 Stelle Spero che altri Aderiranno All'iniziativa In Consiglio regionale Perché una cosa È la continuità Contributiva Ben altra cosa E questo magari Non lo chiamiamo Vitalizi Lo chiamiamo in un'altra forma Che darebbe diritto Da nutrizione Raggiunti i 65 anni Con soli 5 anni Di contributi Pensiamo gente Mi riferisco per esempio Al lavoratore del commercio Che forse Che perde i contributi versati Se non raggiunge il minimo Esatto Cioè li perde completamente Un operaio Che versa i contributi E non ha 20 anni Contributivi Li perde Esatto È come se non avesse versato Assolutamente nulla Allora Poi quando ci definiscono Casta In qualche maniera Poi dobbiamo Dire che è il vero Quindi Assolutamente in linea Con la proposta Dei 5 Stelle Spero che possa passare Proprio perché Capisco che possa essere Un'esigenza Per taluni Che Nell'arco della propria vita Vivono questi 5 anni Di esperienza regionale Ma poi voglio dire Non devono maturare Un diritto Per aver vissuto E aver erogato Solamente 5 anni Di contribuzione Costanza Carino La condivido anch'io Però mi domando Se Il Consigliere regionale Continua a svolgere Sulla propria attività Lavorativa Perché Ci sono personaggi Che campano soltanto In politica Ma ci sono anche Altri personaggi Che invece Esercitano la propria professione Che succede A queste persone Si somma Quella pensione Si somma all'altra Questa è una cosa È un'altra È una struttura È una struttura Che va Si somma eventuali Vitalizzi precedenti Va sanata Perché è un sistema Contributivo Che ti rende Quello che hai pagato Quindi Tenga conto Tenete conto Che in una legislatura 60 mesi I consigliere regionali Versano in tutto Tra l'oro E le casse pubbliche 110 mila euro Circa Due legislature Sono 210 mila euro Di questi Una parte Il consigliere È quasi È tre parte Quasi Le casse pubbliche E anche qui Mi permetterei di dire Che probabilmente Facendo una Analisi dell'importo A parte le percentuali Quelle e quella Ma loro percepiscono Lo stipendio Perché Che noi contribuenti Li paghiamo Non è che Non è che sono soldi Che quelli che escono Da che mette la regione Il 275 Che mette la regione Sono una cosa E i 528 euro Mensili Che mettono loro Vengono da un'altra parte Sono stati presi nel pozzo La situazione è la stessa Quindi Questa è un'altra struttura A sistemare Quella di cui parlavo prima Nel caso in cui La persona lavora Ma poi Il discorso Della reversibilità Cioè Anche questa Sono reversibili Non è normale Non è normale O figli Figli minori In caso di mancanza Del college Sì Io non so Se nella nuova Chiedo A un video Al consigliere Federico Se nella nuova situazione Si parla anche Di reversibilità Sì Però Mentre nella vita normale Di un lavoratore Di un pensionato C'è la reversibilità Per la vedova O il vedovo Per il coniuge Su testi Diciamo così No Per il vedovo Il vedovo E se ce l'hai E basta Ti tocca di diritto La reversibilità Nella misura Del 65% E qui se non ricordo male È il 50% Invece Se non erro Invece Quello sul quale Ci sarebbe da discutere È il ragionamento Sui figli Perché Nella normalità La situazione Della reversibilità Che passa Un figlio È solo Desclusivamente Se è inabile A proficuo lavoro In questa situazione Ripeto Non me la ricordo Quindi pongo la domanda Al consigliere Federico In questa situazione Con la nuova Con la nuova norma Chiamiamola così In stabilità C'è questo distingo Il figlio La prende comunque O solo ed esclusivamente In caso di inabilità A proficuo lavoro Perché già lì Ci sarebbe anche Un ulteriore punto Da discutere Ovviamente Federico veloce La prego Velocemente Come questo La delibera Dell'ufficio di presidenza Che ha fatto vedere 15 ottobre Rappresenta L'attuazione Dell'aspetto contributivo Di quindi Come posizionare Quindi regolamentare Quella legge Sotto quel punto di vista Ci sarà un altro Delibere dell'ufficio di presidenza Che dovrà regolamentare Tutti gli altri aspetti In cui evidentemente Anche questa Altra situazione Quindi magari Tenetene conto Di queste considerazioni Diciamo L'articolato La legge Di stabilità regionale Lo prevede Lo prevede Lo prevede In maniera chiara Certo Si può sempre decidere E sarebbe da modificare Si può decidere D'Argelo Deve aspettare Deve aspettare un attimo Ci devo fermare Pubblicità E dobbiamo correre Perché abbiamo Tanti argomenti A cuore Pubblicità Pia digitale Pia digitale Adriatica Innovazione Competenza Professionalità L'informatizzazione Al servizio Della pubblica Amministrazione E delle aziende pubbliche Zero cartaceo Tutto in digitale Il futuro È già presente Pia digitale Adriatica Contrada Colle delle Api Campobasso Telefono 0874 1835 001 La tua giornata Si muove sulle gambe E noi lo sappiamo bene Gonfiore Dolore Varici Ulcere I problemi sono diversi Ma VSK Medical Li affronta subito Con un team di specialisti In cardiologia Geriatria Chirurgia Allergologia Ortopedia Ostetricia Alimentazione VSK Medical Centro medico Angiologico Flebologico Con approccio Multispecialistico In Viale Manzoni 71 A Campobasso Il 12 dicembre Viscovo ti invita a cena Manca poco alla grande cena spettacolo Nelle sale delle Hotelle Europa Ospiti speciali I chiattoni animati Risate a tutta pancia Spendi almeno 450 euro IVA inclusa E ricambi accessori da Viscovo E vieni a cena gratis Anche per scontrini multipli Regolamento in punto vendita Viscovo Rampa Santa Maria delle Monache Isernia Il valore di un ricordo È pari solo a quello Di un'emozione inestimabile Rendi indelebili i tuoi ricordi Affidali a dei professionisti Foto-video Mimmo Da 40 anni A Boiano Professionalità Ultime tecnologie E uno staff giovane e dinamico Per raccontare le tue emozioni Stampa foto immediata Ritocchi fotografici E l'inedito Inspiration Point Unico in Molise Foto-video Mimmo Al centro di Boiano In via Fiumicello Scopri tutte le nuove collezioni Di Simona Fashion Milla metri quadrati di moda Di stile e colore Abbigliamento Borse Calzature Accessori Le firme che hai sempre apprezzato E i nuovi marchi di tendenza Per l'uomo La donna Il bambino Simona Fashion È a Porto Cannone Da Mico Arreda Organizza nel suo nuovo showroom Di Civitanova del Sannio La quarta edizione di White Wedding Luxury Domenica 22 novembre Dalle ore 11 Fino a tarda sera Fashion show Miss Kelly Sposa Ospite d'eccezione Il nonno moderno Direttamente da Made in Sud Da Mico Arreda Vi aspetta con altre mille sorprese In corso nazionale a Termoli Gioielleria Martino Gioielli e orologi esclusivi 4 gomme termiche Nexen Raggio 15 per Grande Punto Golf Focus 240 euro Automoto Club In via Barbato Zona centri commerciali A Campobasso Dove Tutte le misure E tutte le marche Sono disponibili su ordinazione E montate entro 24 ore E Costano meno Automoto Club Revisioni Preumatici Sicurezza E Risparmio Il Vaiont di tutti Quando rileggere la storia Diventa un percorso originale A tratti avvincente Cronache addolcite Da sorrisi quotidiani Speranze di uomini Pronti a rialzarsi Il 28 novembre All'Auditorium di Sernia Il Vaiont di tutti Riflessi di speranza Il fascino di una produzione inedita Musiche originali Suonate dal vivo Scenografie Che portano lo spettatore Fin dentro al racconto Una presentazione di Cruder Abbigliamento uomo Campobasso Ultima parte Dobbiamo correre Ancora tante slide Da vedere Molti ci chiedono su Facebook Quando Di fare chiarezza Sugli stipendi Dei consigli regionali Bene Sono pronti Uno per uno Ve li diremo tutti Tra un po' D'Angelo Allora Io non condivido Non condivido Perché viene meno Non c'è nessun rapporto Di lavoro Non condivido L'istituzione del vitalizzo E la pensione Pensione complementare Uno deve fare politica Come servizio Dopodiché Si vuol pagare privatamente I contributi Fa una polizza privata E a 60 anni Dopo 15 anni 20 30 40 Più paghe Più hai Ovviamente Riprenderà il gruzzolo Ma questa è un'altra È una scelta Che Individuale Singolarmente Ognuno 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 Perché quello che voleva fare I 5 Stelle È vero Questo avrebbero Vogliono fare La politica deve tornare Ad essere un servizio Per la gente Gratuitamente Bisogna fare Gratuitamente Perché un fondamento Di verità giuridica In quello che dice D'Angelo C'è Cioè non c'è Il rapporto di lavoro Tra il consiglio regionale E gli eletti consiglio Non c'è un rapporto di lavoro Subordinato Quale previdenza Insomma Questo è il punto Allora Prima di passare A Emilio Izzo Vediamo ancora i nostri amici Su Facebook Cosa ci raccontano Vi ricordo Cliccate la pagina Mi piace Sulla Telemolise Sulla pagina di Telemolise Allora Stefano Mitro Ciao Va bene Credo che lo stipendio Giusto per un consigliere Sarebbe di 2.000 euro Magari Dico io Tony Messina Allora Paolo Scarano 12.000 euro Vanno bene Aspita 12.000 euro Vanno bene Perché producano ricchezza Benessere Servizio Ah non avevo letta Seconda parte Benissimo Emanuele Baratta Un consiglio regionale Non dovrebbe guadagnare Più di un impiegato Se fa il suo lavoro Perché tale è Anche guadagnare Quando un dirigente Sarebbe troppo Visto che alla fine Se sbaglia Non paga lui Ma noi cittadini Per quanto riguarda L'operato di frattura È riuscito a realizzare Qualcosa di incredibile Cioè Distruggere una regione Sotto tutti i punti di vista Ma La cosa più squallida È che ha Perseguito I suoi lerci Interessi I suoi interessi Come mai Nessuno Prima E in un periodo storico In cui forse Anche il più meschino Dei delinquenti Ci sarebbe fatto Gli scupi No no Delinquenti no Emanuele Chi altro c'è L'ultimo Prendiamo l'ultimo Raffaele Biundi All inclusive Di mille euro Diecimila euro Al mese Senza vitalizio Senza gettone di presenza Né stipendi O commissioni Varie viaggi Vitte alloggio Tutto compreso Solo diecimila euro Non un centesimo in più E poi voglio vedere Chi vuole andare a Roma Insomma Diecimila euro al mese Lorenzo Cancellario Credo che una giusta retribuzione Potrebbe essere Di euro cinquemila Sappiamo tutti Che la politica Ha svariati costi Ovviamente I consiglieri In carica A parer mio Dovrebbero mettersi A lavorare seriamente Ed oggi Nessuno Ha capito Cosa stanno facendo Giovanni Pioriello L'ultimo La regione È un ente inutile Come tanti altri Enti creati Per esportare Carte da un tavolo A un altro Perciò Io non gli darei Neanche un centesimo E vabbè Esagerato Esagerato Giovanni Andassero a zappare Vabbè Ognuno fa il suo mestiere La politica Quando è fatta bene Serve Ed è anche Un'arte nobile Allora Emilio Izzo I commenti sono Drammatici Insomma Qualcuno Anche molto Molto duro Invita Rizzi No no Voi dovete aspettare Il risponso di Facebook C'è un risponso quotidiano Sulle strade Quindi queste cose le so Ma Gigi non mi ha Anticipato Sulla questione Delle assicurazioni Ognuno se le può Come dire Aprire in qualsiasi momento E quindi si va In qualche modo A garantire Il futuro Se lo meritano Aggiungerei Però insomma Se la paga Poi non fa niente Poi se non sono Sulla questione Del dipendere O meno da qualcuno Perché sentivo dire Prima per esempio No No Comunque I nostri datori di lavoro E' il popolo Beh Se così fosse Allora poi La sfiducia Non la deve dare l'Aula Ma la deve dare il popolo Quello dicevamo prima Allora non sono Dipendere dal popolo Perché se no La discussione La devono fare Il professore della morte Ci ha spiegato bene Come stanno le cose Ma io Sì peccato che C'ha quel brutto cognome Ma ce l'ha spiegato bene Cognome è quello Che si trova Il problema è uno Io non ho mai sentito dire Da un genitore Io ti lascio Come Come l'ascito Il fatto che tu Devi fare il politico Cioè ma chi L'ha detto a questi signori Che si devono candidare La gente Non si svena il giorno Per dire oh candidato Perché se non vedo te lì Io muoio Non ha mai La gente non chiede mai A uno di candidare Sono gli altri che si pongono E se si pongono E anche la passione politica Però di mettersi a disposizione Prendendo tutti quei soldi Perché se no significa Che non ha senso di giustizia Non ha passione Non ha rispetto Non ha assolutamente Niente di niente di niente Quindi Quando voi snocciolate cifre Mille Duemila Tremila Secondo me Ce le giochiamo all'otto Perché non ha alcun senso Dare una cifra La responsabilità Va data nella misura In cui tu sai Il paese In quale situazione versa Se la situazione Paese Regione In questo momento È di cifre impressionanti Di gente Che non ha più il lavoro Allora tu ti guardi allo specchio E dici Io mi vergogno Di prendere quei soldi E ti vai a fare conti Tu Di quanto devi prendere O se no Glielo vai a dire Alla gente I tuoi datori di lavoro Qual è la cifra Che devi prendere Ecco perché escono Fuori certi cifre E dovremmo fare La legge Iniziativa popolare L'hanno proposta Alcuni sindaci Gli indignati L'hanno stata bocciata Dal consiglio Insomma Certo Dal consiglio Brava Dal consiglio Ma non dall'agenda Che prevedeva Il dipensamento Dell'indennità Allora A proposito Di indennità Noi questa sera Vogliamo fare Un'altra operazione Per il tempo Che ci resta Dobbiamo correre Fare chiarezza Ce l'avete chiesto Anche poco fa Attraverso Facebook Vi ricordo Cliccate Mi piace Su Telepolise Fare chiarezza Sugli stipendi Veri Dei consigli regionali Veri Carte alla mano Come facciamo sempre Partiamo da un fatto Però Intanto i nuovi stipendi Nascono Dopo il decreto Monti Dopo diversi mesi Per la verità L'insediamento 25 luglio 2013 Legge numero 10 Si regolamentano Gli stipendi In base al decreto Monti Che fissava Dei tetti massimi Sugli stipendi Il primo impatto È stato Abbastanza negativo Perché noi scoprimmo Una cosa Inaudita Davvero Una cosa Che non sta Nelle istituzioni Che non dovrebbe mai starci Che successe Fatti gli stipendi Intanto Diversi consiglieri regionali Continuarono a percepire L'articolo 7 I portaborse Non era ammesso E il governo Non osservò Quella legge Perché Non c'era Nella legge Regionale Questo emolumento Aggiuntivo Di 2451 euro Al mese Era una legge Vecchia Del 2002 Per cui Il governo Non sapeva Di questa legge Quando abbiamo Sollevato Il polverone Abbiamo raccontato I fatti E allora Sono intervenuti Dalla presidenza Del consiglio I ministri Per abrogare L'articolo 7 E finalmente A novembre Fu abrogato Però attenzione Al di là Dell'articolo 7 Che successe In quel mese In quei mesi Agosto Settembre Ottobre Mandiamo la slide La numero 6 E c'è Lo stipendio Di Antonio Federico Che sta qui Con noi E lo stipendio Del mese Di luglio Quindi Antonio Federico A luglio Percepiva 6.800 euro Al mese Più l'articolo 7 Perché c'era C'era No Poi precisiamo Antonio Più l'articolo 7 E più le trasfette Non prendeva niente Perché lui sta a campo basso Andiamo Al nuovo stipendio Agosto 2000 La slide successiva Agosto 2013 Siamo passati Antonio Federico Percepisce 7.000 Percepito Avrebbe dovuto percepire Poi precisiamo perché 7.847 euro Va bene 7.847 euro Da capogruppo Con un'intelità di funzione E poi vedremo Gli stipendi Di 750 euro Però guardate Sulla busta paga Sottolineato C'è applicato Il primo mese Guarda caso Il nuovo stipendio La tassazione massima Cioè Tutti gli importi Tassabili Tutti Ma non sono Una parte Tassata al massimo Ovviamente Mettendo la liquida massima Si riduce Il netto E il netto Infatti Era più alto Di quell'importo Lo hanno fatto Di proposito Secondo me Sono convinto Perché poi Tanto Col 7.30 Si recupera Quelle tasse Pagate in più Infatti Andiamo Sempre alla busta paga Di Antonio Federico Che non se n'era accorto Poi Ne parlamo Assieme All'epoca Vedete La busta paga successiva Di Antonio Federico Scendiamo giù Sale Come per miracolo A 8.416 euro Perché Non c'era stato aumento Perché vedete La parte della tassazione È fatta a scaglioni Cioè Effettivamente Scaglionate Le aliquote Ovviamente Il rapporto al reddito Automaticamente L'importo Se ve lo spostate un po' Sale Eccolo là Sale di 700-800 euro Di netto Quindi Come dire Un magheggio Un magheggio Che davvero Nelle istituzioni Non si dovrebbe mai fare Ma vi dico di più Il Consiglio regionale Che fa Rispetto a noi Che denunciavamo Quelle cose Fa una delibera A Bavaglio Se la mandate Alla slide successiva La 9 L'ufficio di presidenza Del Consiglio regionale Pardon Una delibera A Bavaglio Ecco 115 Vi ricordo Che il primo ottobre C'era stata La manifestazione Degli indignati Davanti Palazzo Moffa Tanta gente Che protestavano Per gli stipendi Esagerati E All'interno Andiamo Giriamo Giriamo pagina E si dice L'ufficio di presidenza Impegna Demanda Il presidente Della regione Della giunta regionale Frattura A intraprendere Ogni iniziativa Utile Al fine di Tutelare L'immagine E il decoro Dell'istituzione regionale Andiamo giù Andiamo ancora giù Immagine E il decoro L'istituzione regionale Insomma Qua davvero Datemi la delega Davvero Qua stiamo Alle comiche Alle comiche Il decoro Dell'istituzione regionale È stato macchiato Calpestato Da coloro Che hanno fatto I magheggi Perfino Sugli stipendi Imposti Da una legge nazionale Magheggi Sull'articolo 7 Che non spettava Rubandolo Rettualmente Non tutti Alcuni Non l'avevano preso Rubandolo E magheggi Sulla tassazione Fatta Sul primo stipendio E non C'è di più Il primo ottobre stesso Giorno di protesta Del consiglio regionale Andiamo alla slide Successiva Paolo Frattura Propone Al consiglio regionale Di approvare Un ordine del giorno Che riporta I nuovi stipendi Per fare chiarezza No La numero Non è questa Attenzione Poi ci arriviamo là È la numero 10 No 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 È la È una Slide C'è l'ordine del giorno Del consiglio regionale No No L'ordine del giorno Più avanti È la numero 17 Che succede Con quell'ordine del giorno Primo ottobre 2013 Me lo trovate Un attimo Per favore E il numero Il numero 17 No Neanche Troppe slide Il numero 17 Bis 17 bis Ordine del giorno Il consiglio regionale Primo ottobre Pomeriggio Perché la mattina Non si è tenuto consiglio Tutti chiusi dentro Il consiglio regionale Approva Un ordine del giorno Con gli stipendi Dei consiglieri Andiamo giù Prendiamo a riferimento Uno per tutti Antonio Federico Antonio Federico Viene riportato Che il capogruppo Il consigliere Con fungione Di capogruppo Guadagna 7790 euro Al mese Per dire Alla gente Vedete Non è vero Quello che raccontano Noi prendiamo In quel caso 7700 euro Al mese Ma lo stipendio vero Erano 7700 Perché Avevano applicato La tassazione massima Lo stipendio Di Antonio Federico Era 8400 E rottero L'abbiamo visto prima Allora Antonio Federico Intanto dobbiamo subito dire Che non percepisce Quei soldi Da tanto tempo Perché Da sempre Hanno rinunciato Adesso hanno rinunciato Ufficialmente Antonio Federico E Patrizia Manzo Intascano Prendono 2500 euro Al mese Vero Antonio Federico Lo vogliamo precisare Questo aspetto Sì perché Da dove Avete preso Le buste paga Di luglio 2013 Ci sono anche Le buste paga Del mese scorso Tutte Le buste paga Tutte le rete Perché E risultano Semplicemente Un piccolo atto dovuto Per la trasparenza E se si guardano Le ultime buste paga Il netto È 2600 euro Circa 2600 euro Questa questione qui Per me è fondamentale Lei si ricorda che noi scoprimmo Io ho scoperto Lei non si rendeva conto No come mai era Aumentato lo stipendio Tra settembre e ottobre C'era la trasparenza E' una situazione massima applicata L'elemento che intervenne Prima ancora Di questo aumento Fu un altro Perché questo gioco E' vero Poi dopo lo scoprimi Successivamente Lo scoprimo Sì Ingiustificabile Perché effetto Il maccheggio Che avevano fatto Sulle tasse Questo è la Caro Presidente Quindi l'immorale Sicuramente non eravamo Di telemonise Prego Però questa Continua Contrapposizione Non lo so No 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 Continuo E' per chiarezza dei fatti Antonio Federico Assolutamente E' per dire i fatti Come stanno Ma infatti io Quello vorrei Approfitto di questa occasione Anche per parlare Con i cittadini E dare delle spiegazioni Sulla chiarezza dei fatti E noi Non ne devo spiegazioni Ma voglio semplicemente Testimoniare Determinate cose Perché Perché è importante per noi La questione dei costi Della politica E' importante perché Noi ci impegniamo Innanzitutto Quando ci candidiamo Dicendo Perciberemo solo 2500 euro Più i rimborsi Che sono necessari Per quelli che possono essere Gli spostamenti Rova, Milano Quelle che sono Le attività istituzionali Che non sono Sicuramente 4500 euro al mese Ma Quello che diventa fondamentale Per noi E' la coerenza Perché Noi quando andiamo Oltre a fare questo Noi presentiamo Degli emendamenti Delle proposte di legge Cerchiamo di In ogni occasione Di tagliare Per legge Questi stipendi Queste indignità E lo possiamo fare Con una cosa Che non ha mai avuto nessuno La credibilità Di chi lo fa già Perché sono stati tantissimi Soprattutto a sinistra E qui Anche Simone Credella Dava un input giusto Sotto a sinistra Cioè tagliamo gli stipendi Tagliamo gli stipendi Però se non dai Prima tu Perché se dai Lanci solo l'input In consiglio regionale Provo la legge Tanto me la bocciano E poi resterà comunque così Faccio bella figura Quello che ci ho provato No Toglitelo Diventi più credibile Dai l'esempio Dai l'esempio Ed è quello che noi facciamo Da quando siamo entrati in consiglio regionale Io non ho stipendi ovviamente Da rinunciare E poi No no Era solo Per raccontare un po' Quella che è la coerenza Voglio che resti chiaro in mente Che al di là delle tabelle Che adesso andremo a vedere Su quanto guadagna ciascun consigliere Ricordate che Antonio Federico e Patrizia Manzo Lo incassano Hanno rinunciato adesso 2.600 euro al mese Allora vediamo le tabelle successive Che successe dopo lo scontro Da noi Dopo che noi avevamo raccontato i fatti Succede che Arrivano le querele Vediamo la slide 11 Arrivano le querele Ha sottoscritto ovviamente A Terremolisa Al direttore Petescia Una querele tribunale Fatta dal signore Iofredi Domenico Andiamo avanti La querela Il PM Tutto il fascicolo Analizza tutti gli stipendi Era la querela un pezzo Un articolo che avevo fatto io Nel quale dicevo Nel mese di luglio 2013 I consigli regionali hanno fatto bingo Hanno incassato da 13.000 a 15.000 euro Fanno tutti gli accertamenti In tempo reale Davvero veloci Andiamo avanti Passiamo alla slide successiva Il PM D'Alterio Chiede l'archiviazione Al GUP E quindi Si oppone però Ovviamente Il signore Iofredi Si va davanti al GUP Andiamo Passiamo oltre Il PM D'Alterio A un certo punto Vede No no Andiamo avanti No no Andiamo avanti Si vede Una tabellina Dove il PM D'Alterio Dice Intanto l'articolo Non era diffamatorio E perché Riportava Il netto Da 13.000 a 14.000 euro Ma lui dice di più Andiamo avanti Lui dice di più Dice Gli stipendi netti Di quel mese Erano No non è questo Andiamo avanti Facciamola scorrere Erano Da un minimo Di 13 Di 11.000 Rotti euro Per quelli che non avevano Questa è la sentenza Di archiviazione Prima Prima di questa Stanno un po' in panna Stasera Stiamo andando di fretta Dove il PM D'Alterio Dice che addirittura Il mio articolo Riportava Stipendi Inveriore A quelli reali Me la dovete trovare Però questa slide E' la numero Quella prima Di quella Che avete fatto vedere Della sentenza Di archiviazione Me la date? Per cortesia Se no Eccola qua No Eccola qua Andate Eccola qua Eccola qua Eccola qua Gli stipendi Netti Venziti Di quel mese Lo dice D'Alterio Vanno da un minimo Di 12.000 euro A un massimo Di 15.313 euro Netti mensili Io ho riportato 14.000 euro Giriamo pagina Vediamo che c'è la firma Del PM Capo della Repubblica O basso D'Alterio Giriamo pagina Ho detto Non mi state a sentire Va bene Giriamo pagina Ok Allora Fatto questo Andiamo Per cortesia La regia Dico Cambiamo pagina Nei minuti che scorrete pagina Andiamo alla tabella Degli stipendi Allora La tabella Cumulativa Degli stipendi Quella successiva Io la vedo Ma che è successo? La gente vuole sapere La verità Sui stipendi No Questi sono Eccolo qua Eccolo qua Ciascun consigliere regionale Guadagna Nel Molise 6.000 euro Uguale per tutti Indennità Di carica Indennità Di funzione Il rapporto All'incarico È ricoperto Per esempio Nicola Cavaliere Non guadagna niente Non era ancora Vicepresidente del Consiglio Poi 750 euro Facciamola scorrere Per cortesia Per il presidente Di commissione Facciamola scorrere Eccola qua 1.500 euro Per l'assessore 750 euro Ancora Capogruppo Il presidente Della giunta regionale Frattura Vediamolo sopra 3.000 euro 3.000 euro Come il presidente Eccolo Indennità Poi abbiamo L'indennità Rimborso Spese Forfettizzata Uguale per tutti Di 4.500 euro Ovviamente Netta Non è tassabile Per cui Gli stipendi Lordi Ma il lordo Si intende Che solo una parte È tassata Ed è tassata Indennità di carica 6.000 euro Indennità di funzione Che vale Da 3.000 A 750 euro Il lordo Sta nella finca Laterale L'ultima Va da 13.500 euro Del presidente Frattura A Scendiamo sotto In base agli incarichi Scendiamo all'ultimo Nessun Quello senza Incarichi Va 10.000 Dovrebbero essere 10.000 E' rotti euro Lordi Ok Andiamo avanti Ancora con la slide Adesso Vediamo un altro Particolare Che riguarda L'indennità Forfettizzata Di rimborso spese Ecco Il Molise Il Veneto 4.500 Come in Molise Il Molise 4.500 Andiamo avanti La Campania La Campania Molto più grande 4.400 La regione Lombardia 10.000 Di abitanti 4.200 4.200 euro La regione Puglia 4.100 euro Andiamo La Liguria Il rapporto All'incarico Ricoperto Va Da 4.150 A 3.200 euro Per chi non ha Incarichi La regione Piemonte 4.050 euro Piemonte Meno del Molise Regione Emilia Romagna Il 37% L'indennità di carica Quindi Saranno 7.000 euro L'indennità di carica Lì 6.000 euro 4.000 euro Quindi Il 30% Sono 1.200 euro Di rimborso E poi Regione Marche 2.700 euro Cioè La regione Molise Guadagna Il rimborso Forfettizzato E Tra i più alti D'Italia E' quel rimborso Dove Non ci sono tasse Ovviamente Altre regioni Hanno aumentato L'indennità di carica Per stare Ai livelli Fasi massimi Del degrado Monti Ma L'altra storia Strale E' che La legge regionale Del Molise Sulle Indennità Prevede anche I rimborsi Permissioni Istituzionali Fuori regione Vediamo Le tabelle successive Vediamo Che Oltre ai 4.500 euro No Che c'entra Questa Quella successiva Questa l'avevamo Già vista Quanto Quando Incassano Di rimborso Spesi I consigli Regionali Eccolo qua Eccolo qua Vedete Che oltre Al totale Delle Degli Le tre voci Rorde C'è Un rimborso Spese Diviso Per mese A secondo Dove Dove Vanno Andiamo Avanti Andiamo Avanti Questo Riferisce a Paolo Frattura Andiamo Avanti Presidente Frattura La 19 Questo E' L'assessore Nagni L'ultima Fiancata Spostate Pena un po' Ci sono I rimborsi Mese Per mese I rimborsi Spese Per diaria Fuori regione Allora Andiamo Avanti Ce n'è Ancora un'altra Credo Di Nagni E c'è Cavaliere Fogigliere Senza Incarichi Andiamo Avanti Questo E' Ancora Nagni Ecco L'elenco Dei Rimorsi Spese Li potete Vedere Andiamo Avanti C'è Cavaliere Che ha Preso Anche Sotto Missioni Per essere Stato Non so Dove Pranzi Pernottamenti Viaggi E quant'altro Allora Io dico E chiudo Ma E' Possibile Che Chi percepisce 4.500 Netti Al mese Tra i più alti D'Italia Non tassabili Poi va fuori Deve prendere Il rimborso Di cosa E' Legittimo Previsto Dalla Legge Regionale Ma è una Legge A mio Giudizio Dovrà Essere Cambiata Dalla Prossima Amministrazione Regionale Ovviamente Su quelle storie Delle Inderità Dei Vitalizi C'è stata Tutta Una Come dire Un direggio Nazionale Davvero Vediamo Qualche giornale Dell'epoca Per non parlare Le Iene Giletti Facciamola vedere Queste slide Velocemente Solo i titoli Solo i titoli E vediamo Che Eccola qua Il Molise Dribba I tagli Sta Intervista Antonio Federico Andiamo Andiamo All'alto Andiamo Allora Antonio Federico Mentre vediamo Queste slide Secondo lei Quando lei Nella mozione Dispiducia Parla di Dileggio Il Molise Queste cose Fatte Due anni fa Hanno dileggiato Noi Il Molise Quello che Secondo me È La storia Che racconta Meglio Quello che è stato L'atteggiamento È l'articolo 7 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 Si approva la legge 10 Questa poi che rifai L'indennità E non viene Non c'è nessun riferimento L'articolo 7 Che esisteva da oltre 10 anni Ricordiamolo Si Che non è che è uscito 2002 Non è che è uscito solo adesso 2002 E quando abbiamo fatto Le menta Non c'è ne tenuto monti Però prima Si ma comunque Stava nelle tasche Di consiglieri Certo stava nelle tasche Di consiglieri E c'è un'inchiesta In corso anche adesso Sicuramente Quello che abbiamo Abbiamo fatto Quella notte È stato Togliamolo adesso Perché col senno di poi Ci saremmo risparmiati Le igiene Le sinchiesse Le figuracce Passa semplicemente Un po' di buon senso Ricordo che rimasero Tre ore Sì Chiusi In conclave A cercare di capire Fecero una votazione E passò La linea Manteniamo l'articolo 7 Salvo poi Dover fare altri due leggi Per capire che si doveva togliere Prima si voleva regolamentare E la seconda Dopo che arrivò Anche su segnalazione Del 5 Stelle Anche del comitato Degli indignati Alla presidenza Del consiglio dei ministri Che ci diede Una informativa In cui si parlava Di sostanziale Illegittimità Di quella Perché superava Gli importi E il decreto voto E quindi Doveva essere tolto E a dicembre Quindi con la terza legge Si è tolto Si sarebbero risparmiati Tante cose E questo è quello Tutti hanno restituito L'articolo 7 Diciamo anche questo Che è giusto Tutti hanno restituito I soldi C'è stato chi Lo ha rinunciato Dal subito Alcune da subito 5 Stelle Ma ci sono stati Altri consiglieri Gelfredi Petraroia Frattura Vado a memoria Vado a memoria Frattura non lo so Perché i contenuti L'aggiunta Ce l'hanno mai Ricordo queste cose Allora Questa è la storia Di questi due anni e mezzo Tra costi della politica C'è Varatti Quindi a se solo L'abbiamo risparmiato Che Molise ne viene fuori Secondo lei Agli occhi della nazione Ma giustamente Un'immagine di Molise Molto particolare Perché Anche i costi Della politica Io voglio ricordare Che io M'era un candidato Alle scorse regionali E Massimo Romano Avevamo firmato Un patto Con i cittadini In cui noi Avremmo davvero Rinunciato Al 50% Poi c'è stato Chi Pur essendo candidato Con Massimo Romano E mi riferisco Al consigliere Filippo Monaco Ha rinunciato Solamente sulla carta Al 50% Dell'indenità Così come Devo ricordare Subito Anche con un accrocchio Con l'attuale maggioranza Si è fatto eleggere Vicepresidente Della E l'abbiamo già detto Esatto Certamente Non è un'immagine Molise bella Però voglio dire Questa è un'immagine Che fa male a tutti Non fa male solamente A chi fa politica Regionale Ma fa male davvero A tutti Perché non è bello Assistere quotidianamente A scene O a giornali Che in qualche maniera Riportano Delle situazioni Che in qualche maniera Riportano la verità dei fatti Esatto Riportano la verità dei fatti Quando Antonio Federico Dice il litigio No L'alterco La contrapposizione Beh C'è Chi È succube E chi Voglio dire Chi invece riporta la verità E chi compie i fatti Però fortunatamente C'è ancora chi Lo dicevo prima A telecamere spenta Come me E come tanti altri Consiglieri provinciali Per esempio Stiamo rinunciando Ormai da tre anni A fare Gettoni di presenza Nell'ufficio di presidenza Della provincia E lo dico In maniera bipartisan Cioè abbiamo sia la maggioranza Della provincia Di Campobasso Sia la minoranza Chi come me Tanti altri Voglio dire Davvero riuniscono Le commissioni E noi andiamo avanti Solo col tempo Strettamente necessario E nei giorni Strettamente necessari Senza Dover prendere per forza E gettoni di presenza C'è un altro Molise Che è ancora possibile E speriamo E meno male L'intervista Montagra La manderemo Nei telegiornali Allora Costanza Diciamo così A mettere nel dimenticatoio Anche il ragionamento Per quanto riguarda stipendi Cose eccetera Prebende varie Anche dei gruppi regionali Perché io non ho mai visto Una cosa di questo tipo E cioè A parte tutta la situazione giuridica Che c'è Tutti i processi Le cose eccetera Le indagini Che sicuramente porteranno Alcune sono già state fatte Altre ancora sono in corso La cosa che mi lascia molto Ma molto perplessa È che in un consiglio regionale Ci sono 17 Se non ricordo male Gruppi monocellulari 16 16 16 16 gruppi complessivamente Complessivamente Ma ce ne sono molti Non monocellulari Adesso ci siamo inventati L'intergruppo Che però Guarda caso Ragiona su determinate situazioni Ma non si priva Di ciò che è L'importo Che viene utilizzato Anche per pagare spese E uscite Fuori regione Che erano illegittime E che la Corte dei Conti Del quale Mi onoro Di essere dipendente Ha in qualche modo Rilevato E Contestato E mandato a non discarico All'interno Della Diciamo così Delle decisioni Quindi E prima o poi Affronteremo Certo che è bello E prima o poi Affronteremo E certo Intanto hanno bloccato I 5 centesimi Per abitanti Che venivano moltiplicati Certo Antonio Federico Sono sempre bloccati Quindi Dopo che abbiamo segnalato Sono stati segnalati La moltiplicazione La moltiplicazione Che sono 300 mila euro Sparmiati all'anno Gigi Lanci Lo velocissimo Intanto credo che Questa storia Che è una brutta storia Quella dei costi Della Politica Che è una brutta storia Non solo Del Molise Perché il titolo Il titolo quinto Della costituzione Ha portato A questo A questo Spreco Continuo Da parte Di tutti I consigli Regionali Qui nel Molise C'è una storia Più grave ancora Perché La proposta Che noi Avevamo messo In campo Voleva dire Semplicemente Questo Un segnale Forte Oggi Che è un momento Difficile per tutti La politica Deve darlo Attraverso Un fatto semplice Di mezzare Le indennità Dei consiglieri E al consigliere Tocca Dovrebbe Toccare Solo l'indennità Che è una Cifra Omnicomprensiva Perché io La gente Non può capire 6.000 Per Per L'indennità 750 Per la funzione Perché Che è successo Sul piano Pratico È successo Che furbescamente Furbescamente I consiglieri Regionali Han ridotto La cifra Dell'indennità Di carica E hanno aumentato La cifra Tassabile Esatto E hanno aumentato La cifra Non tassabile È una Furbizia grave Brutta Che dà Un segnale Di degrado Della politica Tant'è Benissimo Allora La chiusura a lei Emilio Izzo Vorrei dire Che se tanto Mi da tanto Io insisto Con la signora Che non si può votare Di volta in volta Una maggioranza Se la schifezza è questa Va messa in discussione La maggioranza Cioè voglio dire Questi signori Vanno cacciati Io capisco il lavoro Certosino Che tu hai fatto Con le slide Non vorrei essere Nei panni Della regia Dei tecnici Che voglio dire Ovviamente Si devono sorbire Tutte quelle pagine Insomma Così come Chi ci ascolta Ma il dato Resta uno Che i soldi Che prendono Questi signori Che sia poi La virgola Che sia So proprio Una montagna Ed è una schifezza Che non sopporta Più nessuno E quindi Se questo è È inutile Che continuiamo A perdere tempo Adò Quando tu dici È vero Io lo sapete Vi sono molto vicino In tante cose Che fate Noi ci siamo ridotti Non aspettiamo Che ci sia una legge Che dice Non è questo I soldi Che dobbiamo prendere Parallelamente La stessa cosa Che dico io Perché altrimenti Se no È una sceneggiata Come si sa Che ne sono Parallelamente Dico la stessa cosa Per la mozione di sfiducia È una sceneggiata Perché lo sappiamo Che non vorrà votata Dalla maggioranza Allora tanto vale Come dire Ridursi il numero Dei consiglieri In quell'aula Dimettervi Che date un segnale forte E voglio dire Poi chi verrà Dirà Però intanto Voi lo date il segnale Noi ce ne andiamo Da questa casa Perché non ci rappresenta Perché voi Veramente siete puliti Rispetto a questo Questa vale di lacrime Bene Io ringrazio tutti gli ospiti Al sindaco di Montagano Lo metteremo in onda Nei giornali Lo ripeto Si è Ha rinunciato Alla sua indennità di sindaco Come tanti altri Prego Velocissimamente Sì La manifestazione Se la possiamo inquadrare Ma ci sono anche Delle agevolazioni Perché molte richieste Di adesione Ci vengono Dalla zona di matrice Perché dicono Che prenderanno La metropolitana La metropolitana Leggerna Altra storia Grazie Buonanotte Ci vedremo venerdì Se lo vorrete Buonanotte Da Moby Dick Buonanotte